Abbiamo bisogno di essere delle persone molto attente perché stiamo per giocare Five Tales, un gioco in cui voi e proprio voi dovete acchiappare la fregna giusta, cioè nel senso la signora giusta che più allieta il vostro palato di persone che ormai sanno, sanno come si trova un parts nerds. Tutte le lezioni che vi ho fatto io è un casino, ma hai visto questo gioco e mo' lo vediamo insieme. L'unica cosa è che è tutto in inglese, però vi ho messo dei sottotitoli grossi veramente come delle noci di cocco, quindi non vi preoccupate, è tutto a posto. Fra l'altro noi lo giochiamo anche perché tra poco dovrebbe uscire Ten Dates, che è il sequel, quello che però non è con gli stessi personaggi ma è con altri personaggi. Suppongo che ci siano altre persone da accalappiare in quel momento. Quindi amici, io direi a new game! Iniziamo. Mi potete mettere nel, come si chiama, nella categoria giusta? Prendo subito nota. Oh, aspe! Oh, enter continui. Noi siamo vigni, ma siamo noi questi? Ah, abbiamo già creato il nostro account, ma quindi io non posso essere io. No, è il super sensato, 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 è il super sensato. Grazie, zero! Amici, questi siamo noi. Ci chiamiamo Vincenzo. Abbiamo 27 anni. Abbiamo un pipo lungo 5 centimetri e 9 millimetri. E abitiamo a Londra. Si chiama Vincenzo, sì, si chiama Vincenzo. Almeno siamo giovani. Vabbè, giovani è un punto di vista molto ardito, eh. Potremmo essere vecchi per una sedicenne. Aia, ho rotto la sedia. Potremmo essere vecchi per una diciassettenne, va bene. Un pipo corto, un pipo breve, esatto. Vincenzo per gli amici. Noi siamo Vincenzo, abbiamo 27 anni, un pipo di 5 centimetri e 9 millimetri che abita a Londra. Premo enter. Ah, devo mettere la profile picture. Raga, mi devo fare proprio il social. Ah, però guarda che bello guaglione che siamo. Siamo un bello guaglione, raga. Siamo un bel ragazzo. Che profilo, fotoprofilo dobbiamo mettere per cominciare a zuffolarci alla zuffolona di fiducia? C'è questa fotografia in cui lui mi pare un po' un pesce. Posso dire la verità? Mi sembra un po' un pesce. Se metto questa fotografia io penso che veramente non ci schippa verso destra o sinistra. Come si schifta su Tinder per dire che mi piace? A destra o a sinistra? C'è questa che mi sembra un po' un pesce. Questa con l'amico che però non fa capire chi sei. Potresti essere quello a sinistra o potresti essere quella a destra? Quella col cane? È proprio bello, stupendo. Vai mettere foto di gruppo e con gli occhiali. Di 10 dates c'è la demo. La proverai live? C'è già la demo? Quando l'ho messo in wishlist non c'era ancora la demo. Sì, dai, lo possiamo provare. Fra l'altro 10 dates è in italiano. Il cane attira sempre. C'è questa con gli amici che però ti dà sempre quella roba che non sai mai con chi stai avendo a che fare. Ciao Fusillo! Siamo alla ricerca di Mario! Siamo alla ricerca di Maria! Non di Mario. Questo siamo noi. Il Mario siamo noi. Quindi non ti preoccupa. Lui sembra un uomo torturato dalla vita. Magari lo è. Questo è col cane. Però il cane è ovviamente palesemente non suo. Lui se l'è fatta apposta per far credere alle signorine che a lui piacciono gli animali ed è un uomo di monte. E poi c'è questa palesemente photoshoppata in cui si è messo il monte Fato sullo sfondo. Dai, gli occhi si devono vedere. Nienti occhiali da sole. Quindi questa. Mi state dicendo tutti quanti quelli col cane. Sembrano le foto che fanno i padri in vacanza. È vero, madonna mia! Amici, che dite? Sono sempre a cerca di Mario. Ehi, gancialfo! Vado? È pacciupicciu? Sì, ho capito, ma è photoshoppata. Non c'è stato mai qui dentro. Cioè, si vede palesemente che non c'è mai stato. Ma manco per sbaglio. Va. Poi la gente potrebbe chiedere che è il cane. Oh, però, vuoi mettere il twist inaspettato? Spacciarsi per un cane che sa parlare e scrivere. C'è il pollice opponibile. Mica cacchi. Allora quella con il cane. Vado, allora. Fotoprofilo fatta. Industria. Industria. Ah, dove lavoro? Amici! Il nostro Vincenzo di 27 anni col pipo breve e che vive a Londra. Lavora in finanza. Fa un lavoro creativo. Lavora nell'educazione. Lavora nella... Come si dice? Health care. Io non so nemmeno come definirla. Nella medicina. Va bene. Non so come dire. Health care. Il medico d'ira. Sanità. Bra. Eh, lavora nella sanità. Mannaggia mi sei. Oppure altro. Magari fai il mariolo nella vita. Perché lui ruba i cuori di tutte le ragazze. Creativo? Un dottore troppo generico. Abbiamo addolcito con il cane. Sanità ci starebbe per completare. Sì, ho capito. Ma noi stiamo facendo il ragazzo perfetto. Ma io ma con quella fa... Cioè, non la togliere al ragazzo. Un bravo ragazzo. Un bel ragazzo. Tutto quello che volete voi. Però sì, lo vogliamo fare con il camante degli animali. E che fa il medico. Cioè, ce le pigliamo tutte così. Dai, si buttano tutte. Un marinaio. Magari può essere marinaio. Un parcheggiatore zelante. Potrebbe essere. Amici, finanza. Sai quanti ragazzi attiri con la finanza? È uno di quelli che su TikTok ti danno i trick su come fare milioni di bitcoin soltanto con pochi semplici click. Amici, io vi farei scegliere con un sondaggio. Moderatori, mi potete fare un sondaggio sul lavoro? Il lavoro è importante. È un ottimo argomento di conversazione quando non si conosce la persona. Quindi, se leggo finanza io scappo. Anche io. Perché dico, maronna mia, ma sai che Waller ha la pizzaiola questo? Maronna, io non voglio parlare di queste cose. Ciao, free to force. Buon poveriggio. Cioè, al massimo il medico. Posso dire, ah, che bello. Anche mio fratello è medico. E poi anche lì finirebbero gli argomenti di conversazione. Lui è palesemente veramente euforico. Amici, se volete lo faccio io, eh. Il sondaggio, moders. Aspetta. Posso farlo direttamente da qui. Nuovo sondaggio. Il lavoro. Oh, lo mettiamo. Finanziere. Poi, creativiere. Poi, educhiere. Poi, medichiere. E altrere. Mettiamo così. Un minuto. Inizio il sondaggio. Ah, è partito già il sondaggio. Vabbè, tutto a posto. Ok, ok, ok. L'importante è che sia partito. Fermi tutti che questa è una rapina. Ok, metto. I finanziari ci chiedono di investire. Scappa. Ragà, potete votare. Che lavoro facciamo? Che lavoro? Ma il cuore li rubi o li vendi al mercato nero? Amic, amic. Beh, potrebbe anche venderli al mercato nero. Quindi il lavoro sarebbe Ader, perché vende gli organi che ruba al mercato nero. Ciao. Markor fa lo spazzino di animali morti nelle strade. Madonna mia. Fai il becchino. Magari fai il becchino. Che ne puoi sapere? È un lavoro dignitoso. È un lavoro onesto. Per me, se percepisci lo stipendio in un modo o nell'altro, puoi fare anche il sabotatore di culi altrui. Va bene? Se vendi gli organi, sei musicista. Ciao, Gengar. Buon pomeriggio. Venga, venga, che ci stiamo facendo il profilo di Tinder. Tinder, dai, cucina i cani, vista la voce. Ma dai, non fate gli sporchi. Amici, che lavoro facciamo fare al nostro uomo di fiducia? Dobbiamo infilarci, eh? Pulisce le pescine degli squali negli acquari. Bel lavoro. Magari un lavoro interessante, un lavoro intrigante. Che lavoro gli diamo, amici? Mancano pochi secondi prima di iniziare. L'avevi messo io due minuti? Zero? La prossima volta facciamo tutti quanti da uno, perché sennò non ce la facciamo mai. Sennò non finiamo mai. Lavora nel reparto relazioni pubbliche per una multinazionale presente in tutto il mondo. Inserviente da McDonald's. Fatto un minuto. Sì, 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 la prossima, le prossime facciamo con un minuto. Che bel cane è il tuo? No, faccio l'impaia tuo. Che bel cane è il tuo? Magari si fa fotografare, fa il modello di cani. Ok? Lui è un ragazzo che si fa fotografare con i cani in braccio. È un lavoro degnitoso. Gli pagano, lo mettono su... Come si chiama? Sui calendari dei pompieri. Anche non facendo il pompiere. Creativo! Siamo creativi. Interessi. Raga, noi un interesse abbiamo in questo gioco. Però tra gli interessi dobbiamo metterne anche altri. Dobbiamo mettere tre. Viaggi, spiritualità, arte e cultura, tecnologia, musica, far festa, carità, food and drink. Quindi ci piace mangiare, fitness e sport. Sport. Adele dice sport. Ma con quella faccia fa lo sport. Charity. Capisci a me? No, non ho capito. Se vince la sanità lo voglio dermatologo. No, no, no. Lui fa il creativo a quanto pare. È creativo. Tecnologia, fitness e musica. Non ci sta tutto nel poll. Non ti preoccupare, zero. No, questo non lo polliamo. Questo lo facciamo a caso. Facciamo a caso in base a quello che mi scrivete voi in chat. Spiritualità va messo ad occhi chiusi. Vi prego, facciamolo spirituale. Lo facciamo spirituale. Deve essere un tipo strano. Deve essere un tipo strambo. Perché la... Come si chiama? La strambezza è quella che vince. Ok? Il prete dei cani. Travel. Gli piace viaggiare però con i cani. Ok? Ultima. Parci. Gli piace fare i party però spirituali. Ok? Oppure carità. Gli piace fare la carità. Magari questa... Ok, se vedo sto tizio che fa il creativo con quella foto che mi dice faccio sport, penso che giochi a scacchi al massimo. Doscianto, pratica me. Sì, dai. No, raga, scusate, faccio carità. È caritatevole. Star sign. Che significa? Ah! Che... Uh! Attenzione. Ciao, Carrie! Buon pomeriggio! Buon giovedì! Venga, che stiamo facendo il profilo di Tinder del nostro amico che deve abbordare. Amici, cancro? Lo metto dal mio segno? Che io so cancro. Quindi persone di cultura. Torello? Io lo farei... Pesce. Perché comunque è un bello pesce. Secondo me, bello stu pesce è proprio bello stu pesce. Perché così almeno siamo in... Cancro è bello, ma anche gemelli. Ok. Mi dite cancro? Giusto per un motivo. E dai! Bello stu pesce è proprio bello stu pesce. Facciamo capricorno per sbloccare il livello hardcore. Addirittura, capricorno. Io mi fido di zero. Acquario. Pesce e criadì. Pesce. Facimmo pesce. Pesce e pesce. Fatto, Vinny! Il tuo profilo è completo. Ti presentiamo un video... Ah! Delle video... Persone che possono combaciare con i tuoi interessi. Vado, subito. Oh, mi sta chiamando un callum. Un callum mi chiama. Rispondo. Dai. Rispondo. Però, videochiamata con... Ah, no, lui si è... Ci sono appena svegliati. Cioè, l'amico si è appena svegliato. Oh, no. L'amico non si era reso conto che era all'ora di pranzo. È pure un fesso. Vabbè, questo è andato a fare le cose... Ma questo è uno di GTA, come... Un callum di GTA 3. Cosa succede? Lui però sembriamo una brava persona. Già, per decretività, chi ha voglia di fare una videochiamata appena sveglio. No, ma l'altro era appena sveglio, eh. Noi siamo svegli da tempo perché... Vè. Sì, però che paura. Eh, ok, ho capito. Lui ci sta facendo i complimenti perché ha detto Brava, brava, ti hai fatto Tinder. Mosa, i guandacchia. Uff. E lui è contento, lui è contento. Mi sono persa essendo appena arrivata. Come funziona questo gioco? Gengar, praticamente dobbiamo utilizzare Tinder per conoscere delle ragazze. Ah, ma già ce l'ho il date. Aspetta, mi sono ferma. Mi sono fermata. Mi sono bloccata. Ok, quando vedo queste ragazze, devi guardare delle cose in particolare. Ah, lui ci sta dando dei consigli su che cosa fare. Calum, io ho parlato. Quindi dice, attenzione. Ciao, Goti. Buon pomeriggio. Quindi ci dice, state accorta quando cerchi le zizze su Tinder perché le zizze ti possono portare in altri posti. Ciao, Milchina. Grazie mille per essere stata con noi. Ma sì, ma questo ci sta buio sfottendo. Ah, lui è già ammacciato con qualcuno. Dai, non si poteva scegliere una protagonista femminile? Purtroppo no, c'è solo lui. Cioè, possiamo fare solo lui. Ok, apriamo l'applicazione di Tinder. Vediamo chi mi ha sguipato. Si dice così tra i giovani? Ma come? Ma? No, raga. Ma mi chiedono i soldi. Uh! Ma mi chiedono i soldi. Ma è una truffa. Ciao, Garen. Ma è scam. 40 dollari. Ma questi stanno fuori. Ma ti si installa là subito questa applicazione. Ma è una caratteristica assurda. Perché non erano lire, erano... Erano... Erano i dollari inglesi. Come si chiamano? Le sterline. 40 so, 40 pezzi di piombo. Ma che stiamo scherzando? Come meeting. Ma scusami, seriamente. Ciao, Ed Alexa. Buon poeriggio. I bondi. Amici, quindi possiamo fare solo tre scelte. Perché altrimenti dobbiamo pagare. E noi siamo dei poveri in canna. Va bene? A noi pagare manco per sbaglio. Cioè pagare per trombare? No mai nella vita. Io non pago per lo zumba zumba. Va bene? Quindi fermi tutti. Fermi tutti. Andiamo di gratis. e scegliamoci le nostre tre signore. Abbiamo Maya. Età 22 anni. Ha un pipo di 5 centimetri e 4 millimetri. Educazione nel suo lavoro. Quindi lei è un'educatrice. Potrebbe fare di tutto. Potrebbe essere un'educatrice di cani. Un'educatrice di bambini. Un'educatrice di carte. Va bene? Detto pagare mi si era attivato con Google. Cosa vorrà dire? Aiuto. Ciao Alexis. Buon pomeriggio. Mia cugina si chiama Maya. Magari è lei. Potrebbe essere una sessuologa. Le piacciono l'arte e la cultura. Fare festa e la musica. Ed è un libra che sarebbe una bilancia suppongo. Quindi. Che facciamo? Amici. Abbiamo Grace. Andiamo avanti. Vediamole tutte prima. Abbiamo Grace. Ah questa matcha con la nostra età. Noi abbiamo 27 anni. Lei c'ha 27 anni. Quindi. 27 anni già ci stanno. Un pipo di 5 centimetri e 5 millimetri. Ah. Nell'industria. Nel lavoro fa altro. Ok. Fa altro nella vita. Lei non lavora in una di quelle cose che abbiamo visto. Ma fa. Chissà che cosa. Potrebbe essere una becchina. Pure lei. Potrebbe andare a spazzare le cose degli squali. Ok. Ci sta la bilancia coi pesci. Però ci sta pure il cancro coi pesci. O no. Non lo so come funzionano le cose dei segni zodiacanti. Allora. Poi le interessano i viaggi. Food and drink. E la musica. Ha solo tre interessi. Ma sono tutti e tre interessantemente interessanti. Troppo sofisticata. Se la dire. Che ne sai. Ma non lo sai. Tra l'altro è cancro. Il mio segno. Si vede che è una brava persona. C'ha proprio la faccia della brava ragazza. La cucina di Grassiella è grassiucca. Sì. Lei fa di cognome quello infatti. È bionda. E che c'entra. Non giudicate del capello. Abbiamo poi Safran. Che nome è Safran? Vabbè. Sarà un nome. Età 24. Pipo di 5 e 7. Industria creativa. Come noi. Raga. Questa fa il nostro stesso lavoro. Attenzione. Questa è striativa. Ah. Fra l'altro gli interessi sono spiritualità, carità e arte e cultura. Attenzione. Qual è il nostro terzo? Significa zafferano. Si chiama zafferana, signora. Ah. Attenzione. Grace è quella di Vikings. Non lo so. No. Non credo. Per il momento vince Maya. No. Bibbo. Sei calmo. Lei fa naso naso. Eh. Lei naso naso. Sembra che comunque... Attenzione. Nasi abbastanza. Fra l'altro c'ha il capello rosa. Dai. Avevamo fatto travel, charity and spirituality. Ok. Siamo delle persone veramente molto strane. Comunque posso dirlo. Potrebbe andare bene per il nostro amico. Beh. Lei potrebbe esserci. Perché è creativa. Quindi abbiamo una cosa in comune. E abbiamo due interessi in comune. Questa dovrebbe avere 24 anni. Eh. Why you? Sì. Ha 24. Giuro. Giuro su saffrono, sullo zafferano che la signora ha 24 anni. Ciao Alessia. Creativo con creativo non vanno d'accordo. Poi si scannano. Questo è anche giusto. Quindi attenzione. Abbiamo poi Shaina. Che è shine bright like a diamond. Che ha 30 anni. Quindi è più grande di noi. E si sa. Donna grande. Tutta. Pande. Sta. Sta. Nande. Ok. Oh. Fermi. Oddio. Fiuco. Che cosa? Ed ha un figlio. Beh. Non lo sappiamo se è suo figlio. Però potrebbe essere una fotografia con un bambino che ha trovato per strada. Ok. Donna grande. Tutta mutande. È vero? Posso confermare? Perché io sono donna grande. 33 anni. Ho delle mutande che sono enormi. Veramente. Ma come no? Ma sì. Dico. Non possiamo occuparci anche di un bebè. L'ho capito. Ma magari è un bambino che ha trovato per strada. Ma in che senso per strada? Ma sì. L'avrò trovato per terra. E si sarà fatta la foto per dire. Guardate ragazzi. C'è un bambino trovato per terra. Ciao Crispinianus. Perché è una ragazza aspettantata in Sicilia. Si chiama Shaina. Ma vabbè. Giappone. Cosa? Giapponesi. Ma non è un gioco giapponese questo. Ma i figli non ci piacciono. I bambini in generale non ci piacciono. È un impegno troppo grande. Ma non sappiamo se lei ha figli. Ha 30 anni. Ha un pipo di 5 e 2. Lavora nel healthcare. Quindi può fare qualsiasi cosa. Ciao fistignacchieri. Buon poveriggio. Quindi può fare qualsiasi cosa di stramboide. Del tipo, che ne so, può fare medica, può fare l'infermiera, può fare psicologa, può fare tutte le robe strane connesse con medicina e chirurgia. Interessi. Tecnologia. Food and drink. E carità. Vedi? Fa la carità. Questa avrà trovato il bambino per strada. Ragazzi ha fatto la carità. Dai. Non è per forza figlio suo. Ed è capricorzio. Mi sa di podologa. Potrebbe fare la podologa. Magari poda. Va bene. Bello il cane è tuo. No. Bello il bambino è tuo. No. Ma magari è un bambino di un'amica. Cioè io lo chiamo rapimento. Vabbè dai subita fa maronna mia. Ultima. Abbiamo a pie. Questa mi pare tipo... Come si chiama quella che canta? Quella che fa... I will say to put in front of the big girl thing never loving girl. Jessie J. Mi pare lei. Mi pare Jessie J uguale. 25 anni la nostra page. 5 e 9 centimetri di pipo. Industria fa altro. Vero. Vè. È uguale. Le interessano gli sports, il fightness e i viaggi. Attenzione. Voglio che cambiano sugli occhi. Vabbè ma ci tiene le sopracciglia. Ok. Questa ne ha 32. Ehi. Basta. Che uno magari può avere... Portarseli male gli anni. Ciao spadaccino. Buon pomeriggio. E il segno è del leonzio. Amici abbiamo visto le nostre papabili matches. Dobbiamo scegliere tre. Quindi. Amici. Zero. Sì. Esatto. Fai poll. Ciao free to fall. Ma no. Free to fall se l'avevo salutato. Sever Rollers se l'avevo salutato. Ciao Sever Rollers. Buon pomeriggio. Lei li porta benissimo. Su chi ci si butta? Amici. I tre più votati saranno i nostri nomi scelti. Abbiamo Maya. Abbiamo Grace. Abbiamo Sfrum. Abbiamo Shaina. Abbiamo Paige. Ne dobbiamo scegliere tre. Sever Rollers che torna nel fantastico mondo dei pepsomani. Grazie mille. Voto quella col bambino per il massimo potenziale di depressione. Ha voto pure io. Ma poi si chiamava Shaina. Shine bright like a diamond. Io la voto. L'ho votata. L'ho votata. Ve le faccio rivedere. Abbiamo Maya. Grace. Saffron. Shaina. E Paige. Sono le nostre cinque candidate. votate per il premio Zinna di fuoco. Grace sembra uno di quei mormoni che vogliono farti convertire. La salterei. Grace. Ah dici. Può essere una donna di chiesa. E attenzione. Però salviamo il Pipo più che altro. Più che Bibo. Votate Grace. Tutti quanti dicono dalla parte di Free to Force. Ma attenzione. Maya. Saffron. E Shaina. Sono le nostre tre candidate. Abbiamo. Oh. Quindi Shaina l'abbiamo presa. Raga. Presa. Mo' scopriamo se c'è il figlio. Ciao Alfina. Mo' scopriamo se c'è il figlio. Allora. Quindi Maya. Saffron. E Shaina. Amici. Ma ne posso selezionare solo uno? Con quale partiamo? Partiamo con Maya che è quella più votata. Ok. Saffron. E Shaina. Oh. Fatto. Fa. Una volta fatto questo non si torna più indietro amici. Abbiamo scelto i nostri matches. Quindi adesso possiamo solo andare avanti. Oh. Vedi hanno pure accettato le... Tutte e tre hanno accettato. Raga. Prese. E dobbiamo chiamare il nostro amico per dirglielo. E che palle. Ma questo ce l'avrà pure i cazzi suoi da fare. Ma perché il bambino? Perché sì. Magari non è figlio suo. Scopriamo una persona digna di cultura. Ah. Gli vuole chiedere. Secondo me gli outfit se stanno bene. O se gli sembrano un cretino. E invece questo sta dicendo. Ah. Wassa. Sire proprio. Mamma mia. Che bella pazziata che ti fai. Lui è un po' indeciso. Perché dice. Non sono mai stato in un appuntamento digitale. Ok. E tu non ti preoccupare. Non devi manco pagarle la cena. Tutto un po'. Ma stai tranquillo. Che vai avanti. Tanto non te la devi nemmeno trombare. Perché tanto state ognuno in due posti diversi. Quindi lui dice. Vabbè. Allora le faccio vedere. Comunque non sono uno sciarmato. Che ho il letto tutto sfatto. Mi porto avanti col lavoro. E mi butto in camera da letto. No. In sala da pranzo. Nel salone. E mo' lui gli sta dando delle indicazioni. Dice. Fatti sparati il faretto alla Barbara d'urso in faccia. Perché così sembri bello. E non ti si vedono quei gruscioli che c'hai in faccia. Eh. Poi metti la telecamera che deve combaciare con la punta del tuo naso. Perché altrimenti. Non sembra il naso grosso abbastanza. E si sa. Naso grosso. Pipo grossissimo. Quindi devi dare l'impressione di naso enorme. Esatto. Il contesto è deteare in quarantena. Sì. L'appuntamento è durante la quarantena. Ah. Lui si è messo pure il trofeo vicino. Per far vedere che comunque è uno che vince dei premi. Però la d'ordine è smarmella. Cambia tua location. Sì. Anche te è il faro di Barbara. E appunto. Io lo faccio per non far vedere i brufoli. Ok. Lui è pronto. Devo bere? Dice lui. Allora. Fermi. Beviamo o non beviamo? Raga. All'appuntamento. Digitale. Che stiamo per avere con le nostre signore. Beviamo o non beviamo? Fra l'altro c'è. Ah ok. C'è soltanto o birra o niente. Ma va. Devi bere. Ma scusami. O io un appuntamento si beve? Ma come no? Si può fare un sondaggio? Scusate. Io devo capire come pensate voi. Perché qual è il background di cupolamento avete acquisito nel tempo? Nell'appuntamento si beve o non si beve? Si beve non la gughina fresca. Ma si beve proprio si beve. Aspetta vi devo dire se non è stata un arcade. Yucari c'era a caso il gioco di Floppy Bird. Nel dubbio è stato bellissimo e vi ho pensato. Ehi ma hai fatto il record a mamma che è importante. Intanto è partito il sondaggio amici. Beviamo o non beviamo? È importante sapere se siamo amici del bere o siamo amici del bene. Che non lo so ci fa rendere meno diciamo inclini a dire delle sporcherie. Perché magari ci ubriachiamo con una birra. Magari abbiamo un livello di sopportazione dell'alcol bassissima. Lui si ubriaca con una birra e gli dice wow bella zizza. Cioè non si sa. E l'altra che dice magari beviamo entrambi. Ciao Matt! Buon poeriggio! Abbiamo, alziamo quel gomito e non lo alziamo il gomito amici. Ditemi voi votando al sondaggio. Mancano pochissimi secondi prima di concludere il nostro sondaggio. Dobbiamo fare un appuntamento con una signorina che non conosciamo. Ci facciamo trovare ciucchi come un vecchio veneziano oppure siamo delle persone degnitose. Ciucchiamo! Ciucchiamo! E allora prendo una birra! Lui vedi già mi aveva dato la birra. Lui prende la birra. La prende. Va. Lui sta controllando se si vede tutto lo sfondo. Ah bella questa birra. Mamma mia la birra è in lattina. San di Dio. Era meglio se non te la portava. Forse era meglio essere sobri. Ok. Ma c'è della bromanza qui. C'è della bromanza perché loro due si stanno dicendo io ti voglio bene, ti voglio troppo bene amico. Bro, come si dice tra i ragazzi? Bro, ti voglio troppo bene. Cioè sei a vita mia. E lui dice no, per te ci sarò sempre. Bro, acconta su di me. Se ti va male con questa te lo infilo io. Non ti preoccupa. Ci penso io. Vai, vai. Vai e spacca tu. Che bello. Bella la bromanza. Mi piace. Ok, va bene. Andiamo. Dice vai, poi vai. Vai, ridi, sorridi. Non c'è l'opzione di farsi... Ma magari è un finale alternativo, quindi mai dire mai. Ok, la prima sta per iniziare. Raga, non sappiamo chi è. Credo sarà Maya, perché Maya è la prima che abbiamo scelto. Vai, vai. Iniziamo questo appuntamento. Clicco, mi appunto. Dove... Carica? Ma mi dice di vagare. Oh, 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 oh. Tutti pronti? Forse dovrei mangiarmi un altro cioccolatino. Sono pronta. Cringe col cane. Penso che era quella meno cringe, Cody. Sono agitata. Amici, vado in chiamata. Vado in chiamata, eh. Io vado in chiamata. Vado. Però non fa figure di merda, ti prego. Vai, vai, vai. Sorridi. Madonna, sembravo dei pesci, però. Ma non guardarti intorno. Sorridi e va... Ma non viene. Ah, è arrivata. Hello. Hi. Sorry, I need you to pee. Ah, doveva fare pee. Brava. Si presenta un appuntamento in ritardo perché deve pisciare. Mi dice, mi piace la ragazza. Fermi, l'introduzione mi piace. Va bene. Ehi, le si è portata il vino. Ottimo. Presa. Lui ha notato l'accento di lei. Lei non è inglese dell'inglese dell'Inghilterra. Secondo voi, di dov'è la ragazza? Scelto, Maria. Basta. Brava. TV verità. La ragazza è palesemente Yugali vibe. Sì, arrivo in ritardo perché dovevo pisciare. Raga, abbiamo spanish, danish, hungarian e belgian. Secondo voi, la ragazza, di che nazionalità è? È sp... Sì, sì, è palesemente spanish. I calciatori del suo posto sono bravi. E vabbè, però tu giochi... Ah, qua posso vedere tutte le decisioni che abbiamo fatto e come influiscono sulle persone. Raga, già capendo di che nazionalità è, abbiamo infilato un altro chiodo nella barra del nostro amore. Quindi via, bravi, bravi, bravi! Hai indovinato, hai indovinato. 69 l'hanno fatto apposta. Allora, l'abbiamo tirato a indovinare oppure lo sapevamo già? Cioè, vogliamo fare gli spaccone dicendo, no, vabbè, ma si sentiva che comunque eri una vrenzola spagnola. Oppure vogliamo dire, no, ma ho tirato a indovinare perché il tuo accento è bellissimo. C'è una stanza che è una merda questa. Sì, ma a lei le piace partare, quindi probabilmente lei fa i party lì dentro. L'avevo intuito? O indoviniamo? Al primo appuntamento dallo psicologo ho fatto mezz'ora di ritardo perché erano dalla cacarella. Ecco! Le vibes, sai, la bellezza ispanica. Quindi indoviniamo, abbiamo tirato a indovinare. Sentivo i mariaci in sottofondo, l'ho intuito. Intuito. Yeah, come on, I know. Yeah? Eh, vedi? I would love to tell you that I'm really knowledgeable and culture and everything, stiamo dicendo che siamo dei caproni. Che abbiamo buttato a caso. Eh, lei dice, non ti preoccupare, sei andato di fortuna e la fortuna è dalla tua parte, quindi va bene. Eh, io spero che quindi la signora della fortuna sia anche dalla mia parte con questo appuntamento. E lei dice, ah, c'è un groppo! Ok, lei, mi stanno chiedendo come è andato il lockdown, come sta andando il lockdown. Lei ha detto che si sta annoiando e sta facendo cose. Ma che è? Ah, lei sta imparando dei... No, che sta facendo? Ah, no, insegna, perché lei insegnava, io mi sono persa un pezzo. Ciao, Teto! Lei insegna, a quanto pare, e insegna spagnolo. Beh, assistente di lingua. Beh, lei infila la lingua vicino all'assistente. Dall'assistenza, quando c'è bisogno di lingua, c'è lei che comunque c'è... Parla pure italiano! Ma insegna italiano e francese, quindi fa classi, cioè classi, fa lezioni online. Ok. Vabbè, dai, comunque è bel lavoro, ci sa fare con le lingue, lei fa cose. Le cose buone di sapere le... Eh, vedi, le cose buone delle lingue, dice lei, è che beve già troppo. Dici? Vabbè, dai, sta bevendo tanto di vino. Comunque lei sta parlando di vino. Dice, la cosa buona delle lingue è che se me ciucco come una capra, poi le so parlare comunque. Beh, io ho delle difficoltà a parlare già da sobria. Figuriamoci, e ne so una di lingua, una e mezza, volendo essere specifici. Però ho 24 anni e non ho concluso ancora un capo. Lei ne ha 22 e ne so parlare 3-4 lingue diverse. Ma perché dovevi nasce spagnola, vedi? Gli spagnoli! Cioè, appure dovevi nascere vino, perché lei beve un sacco di vino, a quanto pare. Comunque noi abbiamo dei denti bianchissimi. Ci sono altri interessi sul tuo profilo. Di quale ti interessi in particolare? Arte e cultura, party o musica? Questa ragazza imparerà nove lingue e diventerà il papa. Magari già lo è e non ce lo vuole dire. Te parli italiano e alto tesino? Sì, esatto. Siamo ai cani e fatta. Che le chiediamo? L'arte, i party o la musica? Cosa le chiediamo? Affido il bicchiere. Ma sì! Ma se c'è! Ciao, Abby! Amici, si può fare un sondaggino? Perché questa cosa è importante. Qua ci dobbiamo giocare la partita della vita, raga. Dobbiamo fare la partita della vita. Noi dobbiamo... La musica piace a tutti. Eh, però metti che dice che sente Gianluca Grignani. E metti che dice che sente Ibu. E metti che dice che sente Gianfranco Baglioni. E che fa alle Baglioni? Cioè, tu non è... Metti che dice che sente Gigi D'Alessio. Cioè, tu che fai? Che le vuoi? Cadi in fragrante poi. Voi dici, eh no, io invece ascolto Speed Metal. Poi finisce già la relazione. Se senti i cugini di campagna, la voglio essere Remo. Eccala subito. La mollo subito. Le possiamo cantare di la serola io. Se ascolta musica di merda, si chiude la chiamata e si blocca instant. Però vedi, già state partendo alle conclusioni. Raga, noi dobbiamo sbomballare qui. Dobbiamo arrivare al punto. Dobbiamo chiudere. Se le chiudiamo tutte e tre subito, che fine di merda facciamo? Noi stiamo lì. Invece di... Dai, allora. Era party la terza? Sì, era party la terza. Quindi la prima è arte e cultura. Cos'era? Arte e cultura. Party o musica? Se ascolta le sigle di Yucali, compriamo già l'anello. SPJ! Ma ti merito un applauso! Che le chiediamo, amici? Che le chiediamo? A me, per esempio, interesserebbe... Se io dovessi decidere, mi interesserebbe chiederle dei party. Perché io voglio capire se è una che vi piace fare le feste grandi oppure è una che beve da sola in intimità. Perché io lì vado al sodo. Cioè, capisco e vado al sodo. Però dipende. Molti di voi vogliono la musica, per esempio. Vogliono sapere. Vogliono sapere. Se ascolta Gigi D'Alessio. Ammetti che ascolta le canzoni neomelodiche. Ma sì! Ma poi finisce subito la relazione. Ciao, Seppia! Buon pomeriggio! Ma poi finisce subito la relazione. Amici, se volete sapere delle canzoni neomelodiche, potremmo sapere delle canzoni neomelodiche. Attenzione! Ascolta il neomelodico spagnolo, che esistono fra l'altro. Quindi bisogna chiedere se le piacciono i festini scambisti. Musica, maestro! If I had to pick one thing about the amazing things about you, I would... Vediamo. Chiediamole della musica. Addio mio. La musica è tutto per lei. Ascolta sempre qualcosa. Ci può mandare una canzone? Mandaci una canzone. Ah, ci può mandare la canzone attraverso l'app. Attenzione! Ascolta Pago. Ok. Fammi vedere quando si è sentita. Fammi vedere. Me l'hai inviata? Ah, la sua canzone preferita al momento. I just think it's so, like, fun. It makes me think of beach parties, you know? What do you think? This is your favorite, yeah? Si è bloccato, si è bloccato, si è bloccato, ok, tutto a posto, vabbè, possiamo fermarlo perché fortunatamente abbiamo messo la modalità streamer. Almeno non è iglesias. Beh, beh, questo ragazzo vuole solo morire adesso. Amici, io ve l'ho detto che era una domanda tra bocchetto, la musica, e voi non mi state mai a sentire. Mannaggia, malefacce. Si può fare un sondaggio? La mia amo, non è roba mia, oppure la odiamo? Amici, cosa le rispondiamo? Quanto pare non... È la tua preferita? Sicura? Ma cos'è? Io non l'ho sentita. Claressa era una musica tipo... Da dance, tipo mezza dance, tipo... Teniamo in mente l'obiettivo! Se dici che fa schifo in me... Sì, ma tu te la bruci! Ma te la bruci per sempre! Cioè, sei cattivo! Raga, vogliamo andare di cattiveria? Cioè, se vogliamo andare di cattiveria, possiamo andare di cattiveria. Cioè, io faccio lo stronzo, però non trombiamo. Poi ve la vedete voi! E poi io non voglio sapere niente! Poi fate... Mica funziona così! Eh, ho capito! Secondo te non funziona così? Funziona così! Non facciamo la solita ficca! Insomma, non si vede una sciuccia nemmeno col binocolo. Ve lo dico. Ve lo dico. Dobbiamo portarla a letto e non ascoltare la mo... Ma infatti, al massimo mettiamo... Sexual healing e va bene, va bene lo stesso. Not my thing! Ok. No, definitely beach, I'm getting that. I'm getting that vibe. Ok. Sì, lui sente la spiaggia. C'è il beat. Sì. Good vibes. Ye ye. Però non è quello che ascolta lui di solito. Però gli piace tutta la musica, vabbè, sì. Ah, lei ci ha detto comunque, vabbè, l'importante è che tu sia open-minded. Quindi, insomma, puoi accettare si è drogato. Vabbè. Vabbè. Vabbè, dice, al massimo posso sballicchiarla, però... Mandami tutta la musica che vuoi. A me che mi piace come musica? A me che mi piace come musica? Ragà, che mi piace come musica? Oddio, che gli dici... Il rap. Gli dico che siamo dei rappatori. Ci piace la musica trap. Non la... Non ti prego. Ma che poppe! Il poppe! Il poppe? Voglio andare di poppe? Ci piacciono il poppe? Gigione. Pupo. E pupo è il rap. Palesemente. Io che ricordo l'obiettivo. E ma noi li trappiamo. I giovani d'oggi sentono la trap. Io? No? Mosega! Che musica ci piace, amici? Potete votare col sondaggio? Potete votare al sondaggio. Qual è la musica del nostro cuore? Bro! Ricordiamo l'obiettivo. L'obiettivo... A lei le piace la musica di merda. Quindi... Cerchiamo di ritornare un'altra volta nel momento giusto. Cerchiamo di fare le cose giuste. Ma non è giovane! Ma sì che è giovane! C'ha 22 anni la ragazza! È una giavincella! Che giovane che ha 27 anni! 27 anni? Ma io ne ho 33, sono giovanissima. Ma che state a dire? Ma è meno. Mi metto le mani in faccia. Baby metal. Il metal kawaii. E calla subito. Amici, che musica ascoltiamo? Avete pochissimi secondi per scegliere la musica. Sei giovane? Vi sputo, eh? Ascolto solo i rumori della fonderia. Sarebbe bellissimo. Orologio biologico data di scadenza. Vecchie. Dai, rock! Mi chiedo se ti ascolti questo. Rock music. Ok. Rock music! Ci piace la musica rock? Ok. No, non lo so. Non le piace la... Ma ragazzi però che figura di merda. Ma questa è palesemente una che sente che ascolta Jennifer Lopez in discoteca. Mi pare mai che poteva piacerle la rock music? Ma scusami! Ma questa è proprio un'altra cosa. No, non le piace. Sicuro ci sta qualcosa che ti piace. Premi S per vedere quanto ci odia. Oh, un culo! Ci odia l'88%. Attenzione! Però... Stiamo andando. Nonostante tutto stiamo andando. Ragazzi, stiamo andando. Ragazzi, ma che cazzo stiamo a dire? Stiamo andando. Funziona. Vabbè. Vabbè, andiamo. Fair enough. Vabbè, fair enough, dai. Lei continua a bere comunque tantissimo. Easy game. A lei diventa aggressiva comunque quando lei parla di qualcosa che le piace. Is passionate. You said passionate. Ah, però ha fatto un errore. Oddio. Questo ha detto divento aggressiva quando mi appassioneggio. E lui ha detto quando mi appassiono. È la corretta. Madonna. Ragazzi, però pure noi. Ah, ma che cacchio. Ma dico io. Ma ti pare? Ma non farlo notare. Ma quella è spagnola. Magari la lingua non la parla bene. Ma sei veramente un pirma. Fatelo dire, Vincenzo. È niente. È il vino, dice lei. Dice, correggimi quando sbaglio. Non ti preoccupare. E lui dice, no, no. Ma tu parli meglio di me. Sì, sì. Però dice, c'ho una domanda per te, Vincenzo. Ti chiameresti un introverso o estroverso? Ah, attenzione. Gli avevo esplodato in un occhio. Ma pure io. Non ti permettere. Cioè, ok se lo dici in maniera carina. Però lui l'ha detto veramente con la cazzimma. Dice, passionate. Si dice, passionate. Sta scema. Ragazzi, siamo introversi o estroversi? Ricordiamoci. O siamo un mix. Io di solito faccio un mix. Va bene? Per citare i grandi cultisti e cultori. Facciamo metà e metà. Facciamo un mist, dai. Metà e metà. No, no, no. Chiudete, chiudete il sondaggio. Gli piace stare attorno alle persone. Però gli piace stare pure da solo. Vabbè, quindi t'ha a posto. Metà e metà. E lei dice, bravo, bravo. A me mi piace mixare. È un red flag tantissimo. Però... Mi piace mixare. Lui gli sta chiedendo qualche cosa di strano che le è successo nella vita. Qualcosa di folle e pazzerello. E lei ha detto, no, no, no. È meglio che non ti racconto le zuzzerie. Oddio, non prende la linea. No, BS è crashato. Lo sapeva. Ragazzi, è crashato pure qui o BS. E lei mi ha detto, no, il Wi-Fi fa schifo. E lei dice, no, vabbè, sto ancora qua. Non ti preoccupa. Ah, siamo tornati. Perché t'ha a posto. Quindi, ecco qua. Da quanto tempo siamo a Londra? Lei è da due anni qui. Ah, e poi è venuta a Londra dopo aver girato un pochino per l'Europa. Ha detto, ah, però ha fatto un grande passo. Ah, ma forse era fidanzata. Ok, si è lasciata. Ok, si è lasciata con il fidanzato e si è trasferita a Londra. Però è ancora amica. Credo. Non lo so. Ho capito. Ho capito. Male. Ah, poi lui le ha chiesto, da quanto tempo ti sei lasciata? E le ha detto, no, da dieci minuti fa. E lui ha fatto, ma come da dieci minuti fa? Ma tu sei scema. Ho tappato. Le ha fatto, ah, sto scherzando. Ma ti sto pariando addosso, cretino. E' un sacco di tempo che mi sono lasciata. E poi perché è una cosa tragica? Cioè, scusami, ma posso dire una cosa? Ma parlando mo' serie a me, ma pure se mi sono lasciata l'altro ieri, ma saranno cazzi miei se voglio andare a trombare in giro? Ma sarò libera di dire, voglio già un pipo nuovo. Ma io non ho capito. Ma che è sta cosa? Ma lasciate avere alle persone i pipi che vogliono. Ok, vabbè. Andiamo a va. Ah, vabbè. Comunque avevamo avuto problemi. Ma perché gli sta chiedendo delle cose sentimentali? Coppie copulanti? Sì, ma Linca, stiamo cercando una ragazza. Ah, beh, le piace Londra? Vabbè, ha riso. Carnaroli. Sì, vabbè, ho capito. Ah, dice che a Londra state tutti quanti col cazzo girato. Ma che è sto fatto che a Londra state tutti quanti col cazzo girato? E lui dice, no, ma quello è il tempo. Ehi, ho tempo. Siete veramente persone pallose. Pallose. Che le chiediamo? Cosa stai bevendo? Ti manca casa? Oppure che cosa ti è piaciuto del mio profilo? Amici, possiamo farle la nostra prossima domanda. Quindi facciamo la domanda. Non erano i francesi, ma tutti quanti a quanto pare sono tristi quando vanno in giro per i loro paesi. Amici, qua può partire un sondaggio. Cosa le chiediamo? Ti manca casa? Che cosa stai bevendo? Oppure cosa ti ha colpito del mio profilo? Cosa stai tracannando? Ambriaco. Per favore. Non è che tante volte sei un alcolista. Questo è il terzo bicchiere che si fa alla ragazza, comunque. Questi fermi immagini sono meglio dei suoi. Lo so, vedi come funzionano bene. Vedi lei com'è carina quando si ferma? Mi fermo io e sto così. Se lo so, che ci posso fare? Non è colpa mia. No, ma mi si sta morendo PS di nuovo. Sono verde? Non riconosco i colori. No, sono verde. Ok, sono verde. Ok. La vera domanda... No, non l'aggo. Ok, ok. La vera domanda è perché non stiamo bevendo anche noi. È vero, noi non ci eravamo portati la birra. Sei turchese, tranquillo. No, no, sto bene, sto bene. Amici, amici, più che verde sei gialla. No, dai, sono verde, sono verde. Amici, cosa... Che ne pensa? O mi prof? Che significa? Ti manca casa? Cosa bevi o che ne pensi? Amici, qual è la nostra prossima domanda? Cosa ne pensi della tesaurizzazione economica di quest'epoca? No, scusa, cosa ti piace indossare a una festa? Io le farei la prima domanda perché magari è una culturata e ti sa rispondere e poi te lo chiava direttamente nell'entrasacche. Cosa ne pensi di me? Chiediamo. Cosa ti è piaciuto di me? Eh, cosa ti è piaciuto di me? I miei interessi! Ah, abbiamo gli stessi vibe con gli interessi, ma abbiamo interessi totalmente diversi. Io ho messo che mi piace la carità, che mi piace lo spiritualismo e mi piacciono i viaggi. Lei piaceva fare festa, scolarsi il vino e sentire la musica. Per quale motivo? Non l'ho capito. Ah, lui è uguale a me proprio, quindi diciamo, vabbè, quindi siamo inclini ad essere con caratteristiche simili. Sì, anche io ti ho scelta per le caratteristiche simili alle mie, ma quando mai? Sono le cose più distanti dell'universo. Ti mi ho scelto perché sei finemente raffinata. Noi che cosa abbiamo visto? Raga, 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 raga! I'm nervous. Raga, raga, mo non facciamo gli sporchi. Non facciamo gli sporchi. Che cosa ci ha precolto subito? Ricordate l'obiettivo. Che cosa ci ha colto subito appena abbiamo visto il suo profilo? Va bene? La sua fotografia? Il suo lavoro? Gli interessi? O l'istinto? Mi sono buttato di istinto. La fame di conoscenza? Sì, va buono. Ci facciamo l'obiettivo. Ragazzi, non diciamole che abbiamo swipato soltanto perché fregna. Per favore, non cadiamo in queste cose veramente sgarbate. Per favore, non vi ho educato così. Non vi ho educato così. Dai! Portiamo a casa questo obiettivo. E che cacchio! E allora? Dopo cinque anni e mezzo di streaming, una dobbiamo portarla a casa. Non ne abbiamo conquistata manco me. Ma rimaniamo singola anche a sto giro. Io ve lo dico. Rimaniamo singola anche a questo giro. Io lo so, lo so, lo sento, lo percepisco proprio. Percepisco la singolarità proprio. Istinto animale. Ma smettetela di fare gli sporchi! Dai! Interessi, ultraistinto, carriera o fotoprofilo. Qual è la cosa che più ci ha stuzzicato del suo profilo su Sprinder? Che non è Tinder, ma è Sprinder. Ok? Andiamo a vedere gli interessi! Ah, sì, certo, gli interessi, però, vabbè. Gli interessi, va. Sì, sì, gli interessi sembravano veramente molto belli. Ah, quindi ti ho intrigato. Eh, non potevo dirlo meglio, mi hai proprio intrigato. Mmm, sì, sì, ti ho attirato proprio. E mi sembri ancora intrigante. Ciao, Carca, stiamo cercando di acchiappare! Quindi, che stanno a dire? Fammi vedere. E mo', ma lei sta bevendo succo di prugna? Ah, come ti sta andando questa esperienza su Sprinder? Lei dice, vieni una notte a posto. Dice, no, vabbè, non male comunque. Come lo c'è da acchiappamento? Eh, una chiavica, Carca, una chiavica! E dice, no, però pure a me comunque sembra bello ritornare nel mondo vero dopo quello virtuale. Eh, c'è, vabbè, mi fa piacere che comunque tu stai strombazzando. Oh, che è? È arrivato un tizio in sottofondo che l'ha detto, oh, ti ho trovato l'erba. Ok, andiamo! Spero che sia bene con Tom. Che imbarazzo! Amici, che situazione imbarazzante! Qualcuno ha bussato alla porta e ha detto, wait, ho trovato l'erba, ho fatto un po' di affari, ho riuscito a trovare qualcuno che spaccia ancora in questo lockdown. Vieni a fumare l'erba pipa con me e spero che vada bene anche per Tom. Vabbè, onesto, mica vuoi essere insicuro. Mo' che facciamo? Gli chiediamo chi è Tom oppure ridiamo imbarazzati? Attenzione! Quando possiamo mollarla la battuta sessuale? No, Crispinianus! Che facciamo? Ridiamo? Ridiamo non imbarazzati. Ridiamo e basta. Le chiediamo chi è Tom? Le chiedo chi è Tom, raga. Le chiedo chi è Tom? Tom. Tom Cruise? Ah, non pensavo di essere Tom. No, no, no. No, vabbè, lo capisco. Non ti preoccupare. Yeah, non dovrò occupare. Ah, potevi dirgli il nome giusto. Potevi dire il nome giusto? Ma chi è il coinquilino? Vabbè, ma lei deve andare a fumare. Comunque la troca chiama e quindi quando la troca chiama noi non rispondiamo perché siamo persone garbate. Vabbè, già subito. Ma manco il tempo di riprenderci da questa magra consolazione. Già abbiamo un'altra da abbordare, amici. Niente, questa ci ha piedato. Posso vedere la S? Raga. È andata malissimo. Non le dovevamo chiedere chi era Tom. Ci si fa. Nudge. I vincitori non si drogano. E quella rispore winda. E che siamo in Life is Strange. Non si può riwindare la vita, vera. Ok? Niente, raga. Non ti sei fidata di noi. E ma voi mi avete chiesto chi dite di Tom. Io sto facendo quello che mi dite voi. Come non è colpa nostra? Ma voi mi avete chiesto di Tom. Tutti quanti voi. Basta, fattoni. Andiamo sulle mormone. Ma non ci sono le mormone. Abbiamo Saffron e Shina qui. Non so se sono mormone. Dai che Grace è quella giusta. Ma Grace non c'è. Noi abbiamo Saffron e Shina. Abbiamo scelto queste tre che sono luminose. Assumi di le tue gomme. Ma non ho fatto niente! Dai, eravamo all'88%. Raga. Poi lei ha cominciato a fumare le canne. E beh, è finita l'amore. Niente. È fumata le canne. Qualcuno l'ha chiamata. E ha detto Ah, sì, daje. Shina ha buttato il bambino via nel frattempo. Viene che bella guagliona comunque. Ha cambiato pure fotoprofile. Ma è colpa sua. No, non è colpa sua. Colpa della vita. Ciao, behind you. Stiamo cercando di abbordare su un finto Tinder. Noi siamo lui, Vincenzo. Un ragazzo affidabile con, come chiaramente, colpa sua. Sott'i guarda veramente. Io non vi parlo mai più. Che salucchio. No, da un bravo guaglio. Ce la faccio a un bravo guaglione. Poi, fra l'altro, il cane ti dà sicurezza, ti dà confidenza, ti dà quello spirito giusto, quella cosa giusta che serve per attaccare il bottone. Dobbiamo accoppiarci in questo momento con Saffron che, ricordiamo, aveva i nostri stessi interessi. Quindi, via! Da, figura di merda con la prima è andata. Ma proviamo con la seconda. Ragazzi, prego, vi prego. Voltiamo pagini, ma sì, ormai è andata malissimo. Mamma mia, che schifo. Siamo trattata fidanzata al cane. E anche qui non arriva nessuno. Saffron non arriva proprio. Eccola! Che carina! Ciao! Ah, ciao, Vincenzo! Oh, sono contenta che stai ancora qua. Scusa, mi sono irritata. Ma sono tutti irritata queste guaglie, ma non ho capito, ma non tengo un cazzo da fare. Quella si stava ubriagando e stava fumando dell'erba, pipa. Questa che cazzo stava a fare? Ma voglio capire. No, perché sono l'unico stronzo che viene agli appuntamenti in orario? Ma scusami, lui piace. Ma certo, è un uomo disperato, dopo la botta di prima. Oh, vabbè, è tutto a posto. Ah, stava facendo yoga, sì, vabbè, ho capito. Ma che c'ha dietro? Ma che sfondo c'ha? Ma c'ha le zinne. Ma lei che fa? Le tazze delle zinne. Questa fa vedere il culo. Ho detto, scusami, aspetta, giro un attimo, piego un attimo il tappetino e accendo dell'incenso perché c'è dell'energia sudata qui. Oh no. Oh no. C'è dell'energia sudata. Lei è una che spiritualizza. Fa yoga, è flessibile. Però anche noi facciamo yoga. Cioè, anche noi siamo come si chiama, spirituali. Ah, mi fa piacere che comunque ti tieni attiva durante il lockdown. Ebbè, è l'unico modo in cui posso mantenere un equilibrio. mi piace essere attiva. A te invece piace essere attivo? Hai fatto dell'esercizio? L'hai fatto oppure no? Che abbiamo fatto tutto sto lockdown? O io ho mangiato, mi sono fatta come una cavalla. Però, che vi devo dire? Vedete voi che cosa vogliamo far dire al nostro Vincenzo. So, Five Date cos'è? Achim, è un finto, è un simulatore di incontri tipo Tinder. Però, amici, siamo stati attivi durante questo lockdown oppure non siamo stati attivi durante questo lockdown? Possiamo fare del home workout? Siamo andati a correre? Abbiamo fatto lo yogi oppure niente? Ciao, Filippo, buon poveriggio. Secondo voi, il nostro Vincenzo ha fatto del sano sports e il bubu, eh no, il bubu non c'era, non era disponibile come sport. Va bene. Home workout? Dai, abbiamo fatto un po' di attività a casa. Sì, sì, no, no, io ho fatto un sacco di cose. Abbiamo fatto le hit session. Che cazzo sono le hit session? Si sono picchiati? Ah, devi essere molto forzuto quindi a questo punto. Beh, credo di sì. Non mi sono testato, però non ho letto la domanda. Ah, forse ci sta chiedendo di fare 20 flessioni. Oh no, oh no, ragazzi, ho messo alla prova. Ne sto a fare una ora. Fermi! Ah, high intensity training. Ok, però erano due i, era hit. Solo che, ragazzi, ho messo alla prova, ci ho detto, ah vabbè, allora fammi 20 flessioni, fammi quando sei bravo. Maronna, lo sapevo, non dovevamo mentire, raga, non dovevamo mentire. Ciao Mario, salve, benvenuti, si accomodi. Cazzo, non dovevamo mentire, raga, ma noi teniamo la panza di Babbo Natale. Che gli devo dire a questa, mo? Vabbè, ci proviamo, ok, proviamoci. Lasciate le camera così, così non ti vede, tu dici, ti sforzi, dai. Vabbè, non giudicarmi se le sbaglio, va bene? Dio mio, che sodore. No, ti prego, le flessioni no, io mi rompo. Ecco, là è morto. Una, bravissimo, lei si sta ridendo, rente. Due, è morto. È morto, è morto. Mi dispiace farti fare questa cosa. Ma lui, ma lui è anche lui un birla, ma inventa, dici che ti sei rotto un ginocchio. No, è morto, lui è morto. Si vede che abbiamo mentito spudoratamente. bella, prima figura di merda. Fa, però almeno ha riso. Altro che 20, nemmeno 3. Stai ridendo? Dai, almeno siamo simpatici. Abbiamo mentito, però siamo simpatici. No, no, io sono colpita comunque che tu ci abbia provato, ma anche perché effettivamente devi essere veramente con 20 flesscini che ci vuole, che le resti, io non ne so fare manco una. Cosa stai dicendo? Giuro, non mi mettete a fare riflessioni, io non ne so fare nemmeno una, ok? Ma è perché non abbiamo mangiato la barretta energetica. Esatto, non abbiamo fatto il, come si chiama, il riscaldamento all'inizio. Raga, come è andata? 68, presa, l'abbiamo fatta ridere. Risa, risa e presa. Raga, che fame, Wolfie, a me lo dici, che non ho manco pranzato. Io ne ho appena fatto i duecenti, ho capito, è che voi siete, io non so farne nemmeno una. Vabbè, io ci ho provato, ci ho provato. Ma come hai detto che facevi il workout tutti i giorni? E ho capito, mentivo. Però lei ha riso, tutto a posto. Vabbè, grazie per aver rotto il ghiaccio, potevi anche evitare di rompermi le braccia, però ok. Cosa fai nella vita? Sì, saffica. Ah, è un project manager, per una roba di carità. Come ve lo dico? È vegana. Ha detto che lei lavora, fa il project manager in una roba di carità. Poi ha detto, comunque sono anche vegana. Sì, ma nessuno ne ha chiesto. Ma voi che cazzo c'entra? Scusami, ti ho chiesto che lavoro fai? E come se io dicessi, eh no, io faccio la streamer, però sono vegana. E sti cazzi non ce li metti? Non capisco. E noi facciamo la carità. Vabbè, ho qualcosa per te. Ti ho chiesto sta carità. Ne dai! Allora, raga, lei è vegana. È vegana da un po'. Ti posso chiedere che cosa mangi? Ehi, è un dettaglio importante. in ogni relazione è importante sapere cosa mangia il proprio Sparsnerz. Amici, siamo qui. Siamo davanti alla decisione della vita. Lei è vegana. È bellina pure. Siamo vegetariani? Siamo vegetariani? Siamo carnivori? O siamo vegani? Cosa mangiamo, amici? La percentuale scende a 25, scende a sotto, a meno 20. Tocca vedere se rompe le palle. Beh, oddio! Allora, si è detto subito che è vegana e subito ci ha chiesto se siamo anche noi vegani un po', secondo me, rompe le palle. Io direi io mi nutro solo di brutte figure. Dai! Amici, dobbiamo decidere il nostro destino. Siamo vegani? Siamo vegetariani? O siamo dei carnanti? Carnosi? Ditemi che cosa volete che sia il nostro Vincenzo? Andiamo a salvare il... Eh, ormai è troppo tardi per salvarlo. La bacchio vince? È vegana e spiritualista? Non è un sé, è un quando? Ma io lo so, io lo so, io lo dico. Siamo pirla, quello è poco ma sicuro. Ma solo carne! È solo carne! È solo vera carne italiana! Io lo dico. Potrebbe non piacerti. Oh no. Sei un monstro, lo sapevo. Oh no. Ma lo sapevo. Ragazzi, madonna, lo sapevo! Ci ha detto che siamo un mostro! Nooo! Nooo! È nazi vegan! No, raga, è nazi vegan! Ma che pà! Lo sapevo! Vabbè, è finita, prossima, andiamo avanti. Sei seriato? Ah, ah no no, si è scherzato un po'. Uff! Ah, ok, beh, però ci ha buttato la zeppata. No, Fefefefefefefefe, ha detto, no no no, sto scherzando, burlona, non me ne frega se sei un mostro. Però ci ha detto del mostro, comunque. Comunque ci ha dato del mostro. In diretta a me, negli scherzo, ci ha dato del mostro. Fermi, fermi. Quindi non c'è un problema con chi è carnivoro. Basta che non la mangino davanti a me. Poi, solo per una questione di rispetto, poi per il resto va bene. Tanto non è molto da chiedere che comunque una persona non mangi carne davanti a un vegano, no? Mangio quello che voglio oppure potrei farlo. Raga, fermi. Aspetta, non mi interessa se sei un mostro, ma con le flessioni, però adesso te le faccio pagare tutte. Amici, mangio quello che voglio. Allora, lei ci dice soltanto a me non me ne frega un cacchio se mangi la carne e basta che non la mangi quando siamo fuori a cena insieme perché non voglio vederti mangiare carne. Che cosa facciamo? Ci immoliamo per la pipa o diciamo rimaniamo presi sul nostro punto e non mangio carne ma non impedisco ad altri di mangiare quello che vogliono. Lei, più o meno la stessa cosa, Judy, però lei dice non la devi mangiare davanti a me. Ok? Quindi che cosa faccio? Le dico no, io mangio pure davanti a te. Saranno fatti i miei che mangio. Vabbè, se funziona e vanno a vivere insieme non mangeranno mai insieme. Sì, si guarderanno da muri opposti. Cioè, non lo so. Ciao, Val, che sa puoi poi reggi o mangiare anche il tavolo. Io mangio pure a te, signorina. Ciao, Sassfrons. Cosa facciamo? Mangiamo oppure ci tratteniamo, amici? Cosa vogliamo fare davanti a lei? Giusto che lui dica che fa il cavolo che gli pare, onestamente. Dici tu, però io non so. Dobbiamo portare comunque a termine la nostra run almeno... Dai, almeno un... Raga, siamo a 68. Fermi. Siamo un punto in meno rispetto a Maya. questa risposta potrebbe determinare il nostro futuro. Amici, stiamoci accorti, stiamoci attenti. Questa risposta potrebbe determinare la nostra vita con questa ragazza. Se diventerà o meno la nostra Spazners, potete votare pochi secondi e poi verrà fuori la... Mi trattengo! Ah, vabbè, lo posso fare? Ah, t'apposto. Sto a posto. Oh, gliel'ha buttato. Ho detto, vabbè, dai, è un piccolo sacrificio, però posso mangiare il cibo per conigli ogni tanto. Gli ha buttato là, eh? Gli ha buttato là. Bravo, bravo pure lui. Almeno gli ha cacciato le palle. Lui si è perso. E lei sta chiedendo che cosa stai guardando? Eh, il tuo salotto è un po' confusionarico, confusionario, eccentrico. No, affascinante. Cos'è che ti piace di più? Cos'è che ti attira di più in questo mio living room? Eh, i libri? Cos'è che ci attira, amici? I libri, le bubas o le fotografie? C'è una fotografia qui dietro, ci sono due fotografie qui dietro, oppure un sacco di zin, c'è un sacco di zin, un sacco di zin. Poteri sia onesta, vabbè, chiediamole delle zin. Lui è troppo vicino alla camera, lui è un boomer. Ci sono pezzi artistici qui. Ah, stai guardando le mie tazze zizze. Ah, lei sta facendo comunque, ah no, no, c'è un, no, Zuma, scusami, scusami, non, ti dico io, vi dico io poi quando fare il sondaggio, perché se no, se lo facciamo per tutto è un casino. Ma diceva lei che sta facendo delle lezioni per fare le zin sulle tazze, comunque. Eh, vedi? Sta facendo soltanto delle lezioni, però dice che sono molto belle. Ciao Atres, buon pomeriggio! Ok, ok, I think. Ah, che cosa ne pensi? E lei dice, dimmi che cosa ne pensi, brava, non so brava, raga, che le diciamo? Cosa le diciamo? Le dicevo, no, no, sei molto brava, poi fai del, oppure fai del, una critica costruttiva, o non importa cosa penso io? Io le comprerei, oddio, fanno abbastanza cagare, ci fossero delle bubas belle da vedere, però fanno abbastanza cagare. Posso dire, praise, che magari è il king. Dovremmo compararle con alcuni reali bubas. Alza, no, dai fermi, esposti al mo', madonna mia, quanto siete dei sottoni, vabbè, bravi, ah. They are beautiful. So, proprio, sembrano zizze vere. Sono rustiche, però, dettagliate. Sei molto talentuosa. Sì, sì, vabbò, me stai pigliando in giro. Ma no! Però sei molto dolce. Oh, grazie, almeno. Dai. Vabbè, io ho parlato troppo, quindi è turno tuo di dirmi qualcosa di te. Che cosa le diciamo? Oh no, non sappiamo parlare di noi stessi. Ah, lei ci vuole fare un test di compatibilità. Ok. Domanda uno è, ti piacciono i film horror? Dobbiamo dire soltanto sì o no. Ci piacciono, no? Sì, la maggioranza dice sì. Super easy. Fatto. Ok, gli piacciono tutti i film. Tutti quelli horrorifici, ok? No, il segno zodiacale secondo me ci lo chiede tra poco, eh. Basta, 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 è fermo. No, a lei non piacciono. No. 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 Ci vediamo anche i film separatamente. Le chiediamo perché, io le chiedo perché. Come mai non ti piacciono? Non ti piace il sangue? Ma quello sbrodola. Non è denso, è cremoso. No. Cioè no? Si è bloccata? Oh no. Soffre di? Ah no, è ansiosa, le fa paura perché dice no, aiuto. è un horror, mica devi morire tu. Quindi cerca di, di evitare tutte le cose che la possono triggerare l'ansia. Quindi dice, dato che io sono molto ansiosa, evito di guardarmi i film horror perché altrimenti mi viene ancora più ansia, giustamente. Attenta le spalle, all'improvviso, la morte. Oh, viaggiato? Nella nostra vita? cazzo, possiamo fare gli stronzi che non hanno mai viaggiato? sono sempre, mi piace viaggiare, bello che abbiamo messo negli interessi e poi non abbiamo mai viaggiato. Vai, vi prego, vi prego. No, signorina, dica di sì, ma no, io voglio fare che nei miei interessi ho messo anche mi piacciono i miei viaggi, ma mi piacciono proprio perché non ho mai viaggiato in vita mia. Cioè, io, ho viaggiato pochissimo, io e i Ucali ho viaggiato pochissimo in vita mia, quindi mi piace viaggiare, è nei miei interessi, perché così, da, non viaggio. anche lei non ha viaggiato molto, dai. Chiediamo le perché, fermi, ma noi non siamo Ucali, siamo Vincenzo, lo so, però volevo essere una punta di Ucali. Ah, ok, lei cerca qualcuno con cui viaggiare, viaggia poco, perché dice, voglio cercare qualcuno con cui viaggiare. Ma che domanda è? Ma che domanda è? gli piace il viaggio casa-lavoro, esatto. Allora, la terza domanda è questa, dice, sapresti, resti capace di impacchettarti tutta la tua vita e andare a vivere per sempre su una barca? Ma che c'è? Ma che domanda? Ma come dovrebbe capire e definire la mia vita quel mio essere, questo? Ci impacchettiamo e ci mettiamo in barca? Che facciamo? Soffro di male di mare. Amici, si può votare su questa? Si può fare un sondaggio? Raga, la barca è importante, la barca, secondo me, è tutta una metafora per indicare se abbiamo il pipo enorme oppure no. Ma manco per il ciuffo di Cristiano Ronaldo. Dipende dalla barca, se è quella di mio zio Cosimo Pescatore, no, se è un pirosco, magari sì, se magari è uno yacht, magari è una barcona di lusso dove ci sono venti camere da letto. Amici, barca sì o barca no? Andresti a vivere su una barca per sempre rinunciando a tutta la vostra vita e il wifi? C'avete il 4G? Cioè, ci sono un sacco di modem che vi permettono di, cioè, di modem, di connessioni. Adesso c'è quella Spacelink, come si chiama? Quella lì che fa con i satelliti, quindi puoi praticamente streammare o vu. Se vuoi fare lo streamer puoi streammare o vu. Puoi utilizzare Starlink, Spacelink, pure io, se prendi come sulla nave di Nila Williams stiamo a Frisch. È vero? Vi manca Nila Williams, la dobbiamo rifare. Ci sta provando, aspetta, ci sto provando con un camper, adesso la rendo anfibio. Dai, magari potresti impacchettare tutta la tua vita e andare a vivere su una barca per sempre. niente barca, niente barca, no, non mi prende bene il cellulare. OBS rosso? Amici, OBS rosso di nuovo, è vero. Mannaggia, tutti i vivi. Pronto? Pronto? Ci sono? Mi dite, Pipo, se mi sentite. sono gialla, giallina, rossina, arancione, ros, ros, rossissimo adesso, rosso proprio, rosso fuoco, charizard, rosino, arancione, arancione, rossa, arancione, rossa, arancione, rossa, arancione, rosso, e beh, fermati però, fermati. Se non troppi i frame il colore non conta. No, mi sta, tecnicamente dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe, dovrebbe, per quello. Ci sono? Riusciti di Natale? Raga, facciamo una cosa, vi dico, una parola chiave, dopodiché continuiamo, a me sembra stabile, se io vi dico, ho le unghie, macchiate di, schifo, ripetetemela, vediamo dopo quanto tempo arriva, la vale, ok, ciao, Giacchi, salve, benvenuti, si accomodi, raga, non troppo, SPS, però, mi sembra tutto a posto, dai, allora andiamo avanti, unghie sporche, no, andiamo avanti, andiamo avanti, se proprio sto laggando tantissimo, me lo dite, ok, andiamo avanti, no, non posso mai mettermi in una barca, io invece sono l'opposto, lei vorrebbe barcare, lei barca un sacco, ok, riuscire di Natale, dai, sarebbe bello staccarsi da tutto, e andare finalmente in barca, come ho sempre voluto fare da ragazzina, smidge, quindi niente, no, non sono compatibili, raga, siamo ancora al 61, io stiamo facendo veramente schifo, comunque, dai, come stiamo andando, le piacciamo, ma sta andando male, per Dio, male, andiamo avanti, ma tu ci credi a questi test di personalità, solo perché sono un hipster, non significa che, mi metto a credere a queste cose, l'ho fatto giusto per fare una chiacchierata, sì, vabbè, certo, comunque, oh no, lei è una di quelle che fa le stelle, è una stellare, raga, ha detto che i nostri segni non sono compatibili, ho capito, però te so, ma tu potevi pensarci prima di accettare di venire a mangiare fintamente con me, ciao Oscar, tutto bene, tu come stai? Buon giovedì, stiamo cercando di abbordare, raga, io credo che a questo punto, noi abbordiamo fino alla fine della live, non pensavo che avremmo abbordato così tanto, se dobbiamo andare con la becca e Paolo Fox, alle stelle, sì, alle stelle in testa, raga, non siamo compatibili stellamente parlando, e niente, no, ma vi pare? che figura di niente, vai io, vai io, raga, mo, o questa, o niente, vabbè, o questa o niente, Vincenzo si è salvato, ma carca, noi siamo in quarantena, noi non vediamo l'ora di spipolare, dai, segno di calzonate, ah, ma c'è, c'è, dai, ma c'è andata malì, c'è andata di merda, con tutti, e ho capito che aveva le red flag, ma chi si riferisce? Uno prova, le cipera le cose, si parla, ci si conosce meglio, e poi, temo molto anche la terza voglia, rai io, per favore, raga, ci dobbiamo giocare il tutto per tutto adesso, cioè adesso deve andare bene, 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 ok, possiamo vedere la percentuale? Si è fermata a meno di Maya, cioè Maya ci ha appiedato per le, erba, e fin lì la posso anche capire, scherzo, però fin lì la posso anche capire, perché l'erba del vicino è sempre più fresca, ok? Questa invece ci ha detto, no, guarda, non siamo compatibili con, con i segni zodiacali, quindi non possiamo fare, e mo? L'unica a vedere se la dita qua con il bambino è abbastanza disperata, vado, amici, pronti, appù, appù, sono pronta, madò, raga, è precisa, è pre, madonna, quanto è gnocca, porca puttana, ma nella fotoprofilo non si era preparata per niente, un culo, ma è gnocca, attenzione, minchia, fra l'altro ha risposto subito, era la foto postpart, oh, ciao, 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 c'è stata una scena, piacere di conoscerti, noi siamo entrambi puntuali, e noi stavamo avendo dei problemi a capire come funzionava l'applicazione, dai, smetti, sei del nord Londra, vabbè, credo che sia un posto di Gran Bretagna, sì, sì, i miei genitori si sono spostati, cioè si sono trasferiti qui per stare più vicino ai, ai loro genitori, e quindi lei vive in casa con i genitori, e infatti la stanno chiamando, dice scusami, mi stanno un attimo chiamando, e si sta allontanando per rispondere, ok, allora, raga, allora, allora, quello dietro è il vestito di un dissenatore, ma dove, ma chi, cosa, fermi, sei del nord Veneto, allora il punto è questo, quella era la foto della madre a vent'anni prima, potrebbe essere, mai dire mai, la prima cosa strana, lei è troppo bella per essere vero, ha risposto in orario, allora è figa, punti a favore, scriviamoceli, per l'amor del cielo, punti a favore, è figa, ha risposto subito e puntuale, punti strani, vive con mamma e papà che la chiamano, da quattro vie, che ne sai? Rispondo. Non l'hai sentito, vero? No, non ho sentito niente, perché stavano parlando di me? Che paura, Niki! Ben Tarnouse! La si ama dottoressa. Ben Tarnouse per cinque mesi nel fantastico mondo dei pepsomani, ma grazie mille! Ha pure le sopracciglia fortissime, oh, però è un segno positivo, ok, però è contro, indaghiamo sul numero dei figli, aspetta, no, lei comunque non ha parlato ai genitori di lui, e quindi vivi con i tuoi genitori durante il lockdown. Ah, e lei fa l'infermiera nella vita, ok, quindi attenzione, ha anche un lavoro abbastanza difficile durante il periodo del lockdown. Potevo andare in un hotel, però preferisco stare più vicino a loro, invece di isolarmi. Oh, è una ragazza che comunque pensa alla famiglia, vedi? Capisci? Dai! Ah, però si parlano a distanza, giustamente, perché lei fa l'infermiera, potrebbe sputarli addosso e infettargli il covid. e vabbè, dai, ammiro quello che state facendo voi infermieri in questo periodo, state rischiando la vostra vita, e siete gli eroi di questo momento. Grazie, Vincenzo, è molto importante per me, per me e per tutti i miei colleghi, quindi grazie mille. Quindi, questo vivere a casa con i tuoi genitori, aspetta, non ho letto il resto, però, mannaggia. Ah, lei sta risparmiando per potersi comprare un appartamento, quindi dice, comunque non mi sta male abitare per il momento con i miei genitori. Uno dei migliori risultati è il cotonetta verge, certo. Il prezzo è 46,56 euro, IVA inclusa, con consegna prevista entro 9 gennaio. L'ho aggiunto al tuo carrello Amazon, dove puoi rivedere i dettagli del produttore e del venditore prima di passare alla cassa, per comprarlo ora, di compralo ora. No! Cosa mi ha aggiunto su Amazon? La cotoletta vegana? Cosa mi ha messo su Amazon? Raga! 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 Ma cosa vuol dire? Fermi! Mi ha messo la cotoletta vegana! Perchè? Ah 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 ah! Ma per quale punti? Ma non l'ho nemmeno... Ma poi come ha capito cotoletta vegana? No! 46,56 euro! Ma che cacchio stai dicendo? Ma non... Mi ha messo 100 cotolette vegane Nel carrello! Ma siamo pazzi! Ma questa è pazza! Rimuovi! Ma subito! È la tipa della yoga di prima! Ma che... Sto ruttando! Che paura! Mi ha fatto cacare sotto! Io pensavo fosse bellotta! Ero interessata a sentire questi! Io pensavo fosse bellotta! Che cazzo di paura! 100 cotolette vegane mamma mia! Ma tu sei pazza! Ma ma io devo essere un cun da fan cun! Che paura! 100 euro cotoletti a 48 euro! Però è conveniente! Ho capito! Ma 100! Ma manco se volessi mettermele in un congelatore! Non le posso mai congelare 100 cotoletti! Accendi la griglia! Raga! 100 persone possono venire a mangiare a casa mia! Ma infatti noi mangiamo su HelloFresh! Punto esclamativo HelloFresh! Per avere gli sconti di HelloFresh! Tra l'altro posso dire una cosa! Scusate sono ancora in background qui! Però visto che due persone hanno acquistato da HelloFresh! Non so chi siano perché non me l'hanno detto! Vi ringrazio tantissimo amici! Vediamo se volete! Il codice è ancora attivo! Sarà attivo fino al 5 di gennaio! Quindi spulciatelo! Nel caso voleste fare anche soltanto un tentativo! Mi pare che l'ordine minimo è di 16 euro! Quindi non è nemmeno tantissimo! Quindi vado! Devi avere la forza! Per forza un congelatore da 100 litri mi... No! Io ho un congelatore piccolo così! Però è piccolino! Non congel... Io mangio la roba fresca! Amici! Le facciamo delle domande? Ok! Ciao SPJ! Grazie mille per la compagnia! Buon pomeriggio! In realtà le codalette le volevano... No, basta! Non parliamo di codalette! Sennò questa piglia chiama di nuovo! Per favore! Fermi tutti! Facciamo delle domande! Ti piace vivere con la tua famiglia? È qualcosa che... Sì, sì! No! Perché comunque noi siamo molto vicini! Siamo molto correlati! Capisci la situazione! Che ho detto? Magari ti manca però qualcosa! Ah! Lui vuole dire... Ma scusami se io e te trombiamo... Tu... Cioè come fai? Questo le vuole far capire... Perché lui sta dicendo... Ma non ti manca qualcosa nel vivere con i tuoi genitori? L'indipendenza di poter decidere se portare un pipo a casa oppure no? Ma lui è a casa! Ah! Ah! Dici che l'avevo portata alle voi! Eh vabbè! C'hai pure ragione! Però magari vogliono fare a casa tua e a casa mia! A casa tua e a casa mia! A casa tua e a casa mia! Un po' di privacy! Indipendenza! Magari portare persone a casa! Ecco vedi! Indipendenza! Fermi con il pesce! Bello stupendo! No no no! Comunque sono abbastanza tranquilla! Perché i miei genitori sono tranquilli e posso fare tutto quello che voglio! E poi sto vicino alle persone che amo! Invece tu vivi da solo? Sei in affitto oppure hai casa? Scusa è che voglio giusto chiedere! Voglio sapere! Oi you! Oi you! Azza! Raga abbiamo la casa di proprietà? Oppure non abbiamo... Ha già fallita la seconda domanda! E dai! Non è vero! Fermi tutti! Raga siamo al 36% Ricordiamo che la yucala ha ancora 8 kg di lasagne e tiramisù quindi dove se le infila le cotolette! Ah! Maronna raga! Questa è stata al 36%! Renta non vogliamo troppo in... Raga ma buttiamogliela! Ma diciamo che è casa nostra! Ma che c'è uno futto! Questa è infermiera! Questa magari si vuole trovare la persona che è arrivata! Che ha la casa di proprietà! Eh oh! Ci chiede l'atto di proprietà! Ma no non è stronza come Saffron! Saffron era stronza! Ma no che poi ci sgarra! Ma che te può chiedere l'atto della proprietà! Di proprietà! Dai! Ma non te lo chiede! Ma buttiamogliela! No! Non ho detto niente! Abbiamo la casa con tutto il quartiere! No! Dai! Sì questa ci schifa però ma secondo me è perché eravamo proprio completamente non affini! Creativo è alla casa di proprietà! Non ci crede nessuno! Vabbè magari Creativo è alla casa di proprietà perché aveva dei genitori ricchi! O gli è morta la nonna! Ma che gliel'ha lasciata in eredità! Vuoi mettere! Ho capito che una casa di proprietà a Londra vuol dire che sei il figlio di Bill Gates! Però vuoi mettere mai? Magari è il figlio di Bill Gates! Eh? Dai! Eh vè! Lei ho su capita! L'ho capita questa! Lo zio della me! C'è l'anzio d'America! Magari ce l'hai! Eh vedi! Se hai genitori ricchi è possibile! Cioè ok io personalmente da creativa ma manco una casa in affitto mi posso gestire in questo momento! Però magari c'ho mamma e papà che ci avevano i soldi e mi hanno comprato casa! Ok? Capita! Che facciamo? Gliela butto! Gli dico che è mia! Se fai il credito a Londra per forza non hai l'avvitto! Non hai proprio la vita! Non hai una dignità! Allo zio d'Abu Dhabi! Eh! Che schifo ha la casa a Londra! È meglio Abu Dhabi! Glielo diciamo! Ah ok di famiglia vedi è casa di famiglia ok non mi sarei mai potuto permettere oh non mi sono mai potuto permettere la casa! Ah ta brava però è una cosa che ogni millennial ha avuto non è vero io sono millennial ma a me mamma e papà non mi hanno lasciato un cazzo! Mia mamma e mio padre non mi hanno lasciato un cazzo! Dov'è la mia casa? Mamma? Papà? Ah la vorrebbe! Ok! Non l'avevo letto bene allora! No è perché se no dico scusami! Ma che millennial conosce! Vabbè dai! T'apposto! Che fortuna! C'è la fortuna! C'è non l'ho lasciato le lasagne! Anche là come si chiama? Anche il tiramisù! Vabbè vivo qua comunque tutto a posto! Ok! La casa delle bambole il libro! C'è un elefante nella stanza! Forse lo vedo solo io! Come ti senti? Dice come ti senti a pensare che io sono più vecchia di te? Perché lei ha 30 anni è vero! Lui ne ha 26! Vincenzo ne ha 27! Come ti senti al riguardo? Ci piace? La signora un po' più grande? A me non fa differenza! Invece a te? Finché sei maturo e non ti aspetti una sugar mommy è tutto a posto! Ah quindi non c'è un dollaro questa? Ok! Allora! Nel nostro passato noi che cosa abbiamo? Con chi siamo stati? Con persone della nostra stessa età? Delle persone più vecchie? Delle persone più giovani? Oppure non ho mai avuto una fidanzata? Raga! Io vi farei decidere su questa! Nel nostro passato abbiamo avuto l'occasione di frequentare persone più mature, frequentare persone più giovani, frequentare persone della stessa età oppure non abbiamo mai infilato il fravaglio. No! Ehi! Allora! Scusami! Calmi! Credivo con casa di proprietà a Londra, nessun limite d'età a parte la legge! Ma dai! Non siate cattivi! Non c'è l'opzione non faccio casa all'età se siamo in sintonia! Ma è vero che poi alla fine quello è... Cioè perché io pure sono stata con persone più giovani di me! Però non... Addirittura molto più giovani di me! Oddio! Ma parto per passo per pedofila! No! Giovani ma nei limiti d'età consensiente e consentibile! Fermi! Tipo che ne so! Io avevo 25 anni e lui ce n'aveva 20 per dirne! Capito? Però insomma funziona! La cosa funziona! Yucalè il toy boy! Ma non avevo il toy boy! Non! Ciao Davide! Salve, benvenuti, si accomodi! Non aver avuto una fidanzata non vuol dire che non abbiamo ficcato! Vero, vero, mai battuto chiodo sta vincendo! Raga! Nessuno comunque ha scelto le più giovani! Volete le mature? Ma siete veramente... Si vede che comunque siete una classica maniata di porci che vogliono le milfone! Mamma mia! Siete veramente dei roditori! Dei roditori! La dottoressa è ancora troppo possessiva! Deveva arrivare a 50 anni! Dai! Ma che cazzo! Salta pure che pellotta a 18 anni! No, si vede che bellotta! Questo dice lei cosa! Ma raga, quindi niente? Non si sbomba? Eh vabbè, allora non si sbomba! Mai ho avuto una fidanzata! Eh vabbè, glielo diciamo! Non sei mai stato in una relazione? Cioè non ti sei mai fidanzato? No! Oh no, mannaggia! Questa secondo me voleva uno maturo e maturato! È sorpresa lei! In un modo positivo? Solo sorpresa! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Eh Matti! È stato ando malissimo! Madon! Raga! Raga! Facciamo veramente... Questo è il motivo per cui non siamo fidanzati! Quando dicono solo sorpresa significa che non le piace! E infatti lo possiamo notare dal 18% di compatibilità attuale! L'unica interessante l'abbiamo beh! Cazzo! Veramente era interessante! Siete dei Mangiamilfo! Ciao Lady Alexis! Vuole consigli di abbordaggio! Matti! Dov'eri? Dov'era Gondor? Dov'era Gondor? Abbiamo sbagliato tutto! Ma tutto! Se Vincenzo è sfortunato in amore mi chiede colpa sua! Sì ma magari infatti c'è lui dice non sono mai stato in una relazione perché magari sto cercando ancora la persona giusta perché non voglio infilare il pipo in buchi a caso! Va bene! Cioè non per forza deve essere una stronza! Niente è andata! Finita! Che massa di bugiardi! Perché? Ok vabbè scusami se sono tutto strano vabbè ok fermi è superficiale non andiamo di fretta ok possiamo farle noi una domanda ciao Serpico le possiamo fare noi una domanda raga per favore riprendiamoci vi prego riprendiamoci ok cerchiamo di rimettere della La carne sul fuoco vabbè allora le possiamo chiedere come mai hai deciso di metterti nell'industria della medicina come fai come come passi il tempo chi è il bambino nella tua fotoprofilo oppure dimmi qualcosa di divertente Baby famiglia le piacerà quindi chi è il bambino nella raga io vado di bambino mi fido di 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 corren Non credo che sia tuo il figlio quindi stavo pensando hai un figlio Ah lei ha detto me lo chiede praticamente chiunque me lo sta chiedendo e le abbiamo fatto una domanda scontata raga le abbiamo fatto una domanda scontata Mannaggia bubba le abbiamo fatto una domanda scontata ha detto me lo chiede chiunque mannaggia e tu ce l'hai mia e avrei dovuto toglierla quella fotografia Non è mio ah è il nipote hashish Questo qui va a spacciare invece la tizia di prima e lui vedi vedi che tutto torna vedi che tutto torna è il nipote hashish questo è pigliato e poi è cresciuto e ha da spacciare da mai all'inizio Eccala oh tutto con le tutto si connette vedi è fatta grosso per incredibile Ok quindi hai anche dei fratelli e sorelle c'ho solo una sorella più giovane si è sposata a 21 anni Oh beh si è sposata abbastanza giovane Va bene comunque l'importante è i ragazzi della tua famiglia Cos'è spinster non lo so Però va bene Ah zitella ok ho capito ho capito quindi praticamente dato che la sorella si è sposata giovane a lei le dicono vabbò tu hai 30 anni ormai è peso il liovai al chiodo cioè non potrai mai più sfornare dei pargoli Però lei dice no no io mi sento che le mie ovaie ancora producono degli ovuli belli fecondi e da fecondare quindi non ti preoccupa però non voglio fare questa conversazione seria Possiamo invitarla a fare la fila al primark del centro campania magari si ci sta Vabbè non ne parliamo ok? Per gli ovuli eh c'ha degli ovuli forti Lei salva vite potremmo dirle questo dai dille qualcosa di ardì Lei sbadiglia Raga È stanca però È stanca perché ha fatto l'infermiera ok? Ah lei si fa un cocktail ogni volta che torna da lavoro Quindi dice io torno da lavoro vado in cucina e mi faccio un bel cocktailino Dopo aver sanificato tutto lo bevo Vabbè ognuno deve avere un proprio rituale Vodka, whisky e gin Un culo ma ci fai pesante Ah allora lei ci sa fare dei cocktail con vodka, whisky e gin Che cosa le diciamo? Quale cocktail le facciamo fare? La possiamo far decidere? Lasciamo perdere il non bevo cocktail perché per favore a chi la vogliamo dare a bere? Ma a chi la vogliamo dare a bere? A noi la dobbiamo dare a bere, a chi noi dobbiamo bere? Quindi vodka, whisky o gin? Si può scegliere tra questi tre? Partirà un sondaggio tra breve Eh raga siamo al momento clause Siamo al 18% orzata Sì vabbè ho capito Vodka non è il periodo buo Lo so però magari è buo Nesquik Gli amici per favore Almeno oggi Ficchia alle donzelle piace il gin A me non piace il gin In realtà a me non piace nel gin e nella vodka A me piace solo Nel gin e nel whisky A me piace solo la vodka Cioè l'unica cosa che bevo nei cocktail Il gin un po' lo sopporto Allora il whisky proprio non lo sopporto Il gin un po' lo sopporto Lo bevucchio, lo bevicchio Il whisky proprio zero Però non lo so Magari non sono ginosa abbastanza Io gino o vodka Londra è gin Vai vodka Red Bull Madonna mia poi parto per la tangente però Raga che cocktail le chiediamo? Ditemi che cocktail le chiediamo È il momento dell'alcol Sull'alcol vi vedo tutti quanti pronti Quindi mi raccomando Infilatemi la risposta giusta Quella che siamo sicuri E chi apperà la diva Eh? Fermi tutti Whisky's the way Eh lo so Jägermeister è buono È difficilissimo da pronunciare Lo Jägermeister è buono Il gin Ha vinto Andiamo con il gin Cosa potresti farmi col gin? Un sacco di cose posso farti col gin? Un sacco di cose posso farti col gin Mi vuole preparare il bramble Che è un classico britannico A bramble? A bramble? A bramble? A bramble A bramble Che cos'è un bramble? Non l'ho mai sentito È super semplice Prendi le blackberries Prendi le blackberries Che sono Non mi ricordo Come si dicono in italiano Però sono le blackberries Sono i mirtilli? No Mirtillo è un'altra cosa Forse blackberry Ma che stia? Sono i mirtilli Sono i mirtilli Vabbè Allora so che parlare Un po' di gin Succo di limone Un po' di sciroppo Di zucche Che credo Sugar syrup Sarà tipo Lo sciroppo da No Sciroppo d'acero Un po' di limone Quindi non sono blueberries Perché i mirtilli sono blueberries E quindi blackberries Cosa sono? Le more Ah le more Crema di muro Sono le more Sono le more Sono le more Buono però Sembra buono eh Posso dirlo Lo posso bere? Quanto ne vorrei Uno pure lei? Mi piacerebbe proprio Avere il tuo gin Guarda La stanno richiamando Sono quasi le otto di sera Shaina Sono quasi le otto Oh no Quindi lei ha un appuntamento Deve usci Deve fa fatti Vabbè Divertiti In questa serata Ciao Madonna E' andata malissimo Adesso è beccato La ragazza cannata La spiritualista hippie E l'alcolista Mannaggia la buvazza Raga E' andato tutto malissimo Disastro E' andato tutto malissimo Tutto male Tutto male Tutto Folleva la loro Madonna che faccia La disperata E mo che faccia Chiamiamo il nostro amico Ci sfoghiamo con lui Lo sapeva Ciao Callo Callo Carcallo Lui è carcallo Da Dammi dettagli Allora C'era Maya Ah E' una signorina Della Spagna E lui gli piace La mamma Sita Uguale Com'è andata Una chiave Sai cosa Decentemente Però è ancora Presto per dirlo Eh Mi fa piacere Però vuol dire Che c'è ancora Spazio Per Un twist Inaspettato No 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 Sì sì Qualche possibilità Ce l'ho però Siamo un sporcaccione Proprio Eh 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 È un sacco di tempo Che non infili il finocchio Ah lui non sa il cognome Vabbè mi devi dare qualcosa Su cui lavorare Beh lei è spagnola Insegna lingue Francese Italiano E lui l'ha trovata Sui social Madonna mia Ma veramente Esistono gli amici Che tu gli vai a dire Oh guarda ho conosciuto a queste Tre secondi dopo Ti hanno già trovato Su Instagram Facebook LinkedIn Ma è bellì Ma li voglio anche io Ma dove li trovo Perché Antonio Bellotta Mi scrive delle frasi Eh Ok 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 Va bene Bellotta mi dice Che esce Che paura Ma poteva bussare E entrare Ma è scemo E pirla Quell'altro Effetti secondari Dei social Ma figata Ma lo voglio ancora Cioè aspetta Ci siamo noi Che ancora dobbiamo capire Come loggare sui social Quella sono io Io non lo saprei mai fare Cioè ma non sono proprio capace Ma proprio zero Non Papà Se una mia amica viene da me E mi dice Guarda ho conosciuto uno Si è al Gennaro E fa il Non lo so L'intagliatore Di flauti Io dico Ah subito È trovato Su tutti Non riesco Ma Bellini Ne voglio uno Qualcuno di voi Vuole essere mio amico Certo sono fidanzata Scema ci sarei tu Ma Bellotta Stai molto calmo Qualcuno di voi Vuole essere mio amico Io voglio avere qualcuno Che mi sto Fermi tutti Dottora io sono fine CCHIO Dove devo essere infilato Sorriso con goccia di sudore Ah subito Stai calmo Perché proprio i flauti È il primo strumento Che mi è venuto in mente Va bene Comunque Insomma Vorrei dire La voglio pure io Perché magari conosco qualcuno Lascia per da Bellotta Però magari conosco qualcuno Qualcuno per amicizia Voglio sapere Eh Si chiama Maya Orantes Fermi Ok Fammi dire se è lei Apriamo Instagram Umaron È lei È lei È lei Uh Ma no Lecca la torta Raga entra No 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 Fammi vedere un po' Fammi vedere un po' Che fotografie c'ha C'ha 1420 followers Fermi tutti Fermi tutti È una a cui piace proprio Comunque fare parties Eh Otto post E 9000 view Eh raga È una di quelle che Magari fa un sacco di visualizzazioni Con poche Con poco contenuto Adesso ci scappa Le metto il like Non posso? Dai Le voglio mettere il like Questa è a letto Guarda Le fa capire che sei una Madonna Lei che lecca la torta Comunque è molto ML 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 Mi piace Per chi ha pochi like questa foto? Per chi ha pochi like È la più bella? Che palle Cioè mettono il like A questa fotografia qui Che mi sembra la sorella Della Facebook No è loro Vado avanti Andiamo avanti Hai visto tutto? E che devo vedere? L'ho vista in faccia Perché me devo vedere l'Instagram? Poi c'è la Saffron Eh da dove inizio con Saffron? È un sacco di cose C'ha queste vibes da hipster E Sicuro compri i follower E dai Ci sono stati dei bei momenti Eh vuol dire che va bene Bravo 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 No non Non bellissimi Eh Dagli dettagli Così la trovo Esatto Cognome? So soltanto il suo lavoro Quindi Ah lui la già la trovava Vabbè l'ha trovata subito Comunque Manco col cognome Niente Saffron L'ha trovata L'ha trovata Lei ha 534 follower E 2000 visualizzazioni Anche lei solo 8 post Ma tutte queste ragazze Che conosciamo Hanno solo 8 post Io credo che per essere Su un'applicazione di incontri Ti devi fare 8 post su Instagram Basta Quelli su Dai Lei era carina Però peccato Veramente Con questa è andata Veramente male 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 È andata una chiavica Cioè ci ha detto Veramente vaffanguccio Non siamo compatibili Con i segni zodiacanti Mannaggia Avranno il sito Allifanz da parte Eeeh Quante Saffron Esisteranno a Londra Niente raga Ha le tue stesse unghie Stesso colore proprio Uguale uguale Fra l'altro stavo vedendo Se sono Vabbè niente Blu da puti da putà E vabbè andiamo avanti Niente raga niente Che foto particolare Zafferano è buona E lo so E poi c'è la scena Che era una Infermiera No lei è una seria È un po' più vecchia Di me Ah buono C'è l'esperienza Non c'è il sostituto Dell'esperienza Che è andata bene Se devo essere onesto Sarebbe potuto andare Molto meglio Eh dai Ah non ti preoccupa Non la prendere sul personale Non è che c'hai Un bibo brutto E che le ragazze Non lo vedono bene Vabbè gli dispiace E comunque Si è andata male Vabbè Ah Capito Abbiamo ancora Una possib Raga Siamo ancora in gioco Perché adesso Devo dire All'applicazione Quali sono Le due ragazze Che mi sono piaciute Di più Per andare A fare un secondo Appuntamento Oh Eeeh Possiamo ancora Non rischiamo Con sfratton Eh no Allora Onestamente Lei mi ha Mi ha dato Brutte vibes Con il fatto Che ha detto No Non siamo compatibili Ciao E ha chiuso La chiamata Non mi piace Vorrei andare Con Shaina Come si chiamava Mi piaceva molto Ma noi L'odiamo tutte E tutte odiano Ho capito Però Magari con Shaina Dai Infermiera Infermiera Fermi Fermi Dai Oh magari Mai è Shaina Dai Ci sta Meglio evitarlo Era tipo tossiche No no Era tutta roba Che non ci piaceva Comunque Cioè già era vegana E non mangiamo carne E i segni non compatibili Di segnale Bubas Sulla tazza E non è il caso Ok riproviamoci Raga abbiamo Gli ultimi 40 minuti Per provare Questa situazione Scelgo Maya Madonna mia Queste non accettano Queste non accettano Scelgo Shaina Maya ha accettato Solo Maya Yes No Solo Maya No Shaina non ha accettato Pensavo che avesse accettato Ciao Simone Cosa speravamo Lo so Che palle E non l'avevo letto Avevo letto Soltanto Avevo sentito Soltanto il suonetto Del blim blim Ho detto Vabbè dai Bellissimo Al massimo Raga abbiamo Un'unica Occasione Abbiamo Un'unica Occasione Maya va forte Conquistiamola Ok Allora Questa sera abbiamo Il nostro appuntamento Lei ha fatto Come si chiama Vero o falso Obbligo verità Ha deciso di giocare Obbligo verità E noi stiamo cenando Quindi facciamo una cena Ah no Che c'è La fettivana Ah ok Non è l'appuntamento Ok perfetto A posto A posto A posto Che difficile Ho un secondo Appuntamento Con Maya Stasera Oh bravo C'è proprio Un bravo Aglione Vedi E lei vuole giocare Obbligo verità E tu intanto Ti fai un panino Giusto perché Così avrai anche La cacarella Ok Allora Lui è nervoso Giustamente Ha fatto solo Figure di merda E lui ha detto Vuoi bere Raga Che facciamo Per il secondo Appuntamento Beviamo Lei beveva Lei beveva Come una ciocca Dai ti prego Si bevo Bevo Mi scolo Tutta la bottiglia Di tavernello Che tengo in frigorifero Ma si Ma come on board Ma si 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 Vai 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 Ciucca Ciucca Quella tanto Piglia e fa Ok Lui non si ricorda Come si gioca Obbligo verità Ma che stanno Connettendo sotto Poi fra l'altro Ma nonna mia Perché la cacarella Mica usa il pane Scaduto Che ne puoi sapere Non mi sembra Uno che compra Il pane fresco Anche se quel pane Sembra molto buono Hai saputo Qualche altra cosa Di lei Dal primo appuntamento Sfortunatamente No Ti sei informato Su di lei Vabbè Non si sono sentiti Comunque Lui sta giocando A qualcosa Raga niente Andata Ciao Naruto Buon pomeriggio Non è quello di Altamura Quindi no Eh ho capito Vabbè raga Non facciamo gli schizzinosi Raga Ciao Aurora Grazie per la compagnia Buon pomeriggio Raga Ultima opportunità O West O niente Andiamo Siamo pronti Io vado eh Io vado Poi non dite che non sono andata Concentrati Ma mica io Voi Vado Dai Dai Che Dai Madonna Lei è sempre in ritardo Però Ma ragazzi Facci Ma Ma io voglio Shaina Ma raga questa non viene Raga questa non viene Oh Oh Hey Ciao 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 Siamo di me Oh no Sì non so perché Mi puoi Perdonare Eri occupata Oppure ti è proprio Passato di me No ho fatto un sacco di cose Oggi Lo so che non è una scusa Però mi puoi perdonare Chi è che mi chiama Aspetta che mi chiamano Amici mi potete fare un sondaggio La perdoniamo La mandiamo a fare in cu Intanto Amici Intanto che votate E il corriere Ma che facciamo Dopo quando bellotto Se ne va Ma Non c'è la miseria Arrivo Corro Votate La perdoniamo La nostra Cesta Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, vabbè, dai. Anche lui era in ritardo, sei come mamma nostra, andava mezz'ora prima. Come sei stato? Come stai? Tutto a posto. Ciao, Giulie. Oh Dio, che difficile. Sto respirando. Vabbè, a lei ormai mi sto abituando a stare chiusa in casa. È difficile avere uno spirito libero e poi dover stare chiusa in casa, eh? Eh, io cerco di uscire il più possibile. Mica sto bevendo solo io, frate. Madonna mia, veramente. La birra in lattina, te la deverei chiamare in faccia. Sei un disonore per l'umanità. Vincenzo. Vabbè, dai, sembra andare bene comunque. Sembra andare bene. Sul bere ha vinto lei. Allora, come si fa obbligo verità? Beh. Così almeno conosci meglio la persona. Ok. Lei non beve oggi dalla bottiglia. Beh, oggi no. No, you know what I mean. Vabbè, dai, stanno parlando del comunque il True Tanger. Ciao, Gianni. Mi pepso, sì, devo bere. Ok, dai, sono pronto. Proviamoci. Oh, devo andare io per primo. Raga, obbligo verità. Raga, obbligo verità. Che cosa andiamo? Aiuto. Che ansia. Non ero pronta. Obbligo verità. Facevamo più bella figura col tapernello. Probabilmente sì. Verità, verità, verità. Verità, verità. Vado. Dimmi una verità. Non mi fido con gli obblighi perché tu mi faresti uscire il pipo e metterlo su una cassa panca. Ok. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Ah, piango a tutta, per qualsiasi cosa. Piango a un funerale oppure non me lo ricordo. Per una novese. Forse dieci anni fa. Non me lo ricordo. Oppure a un funerale. Diciamo, no, un funerale. Sono una persona che piange ai funerali. Ma che risposte sono? Lo so. Risposta del cazzo. Però funerale. Non per andare troppo nello specifico, un mio amico è morto l'anno scorso. Oh no, Vinny, mi dispiace. È tutto a posto, non ti preoccupare, non era amico mio. Ah, vabbè. Ah, vabbè, è scioccato, quindi lui ha pianto, insomma, ha pianto lì. Pango ogni volta che acchiappa lo spigolo del condominio, stavo leggendo, che cosa. Ok. Condo lai sensis? Oh no, la correggemo di nuovo? Oh, shit. Abbiamo corretta di nuovo. Però dobbiamo smetterla di correggerla, eh. Dobbiamo smetterla di correggerla, perché se no questa ci dà il due di picche subito, proprio. Va bene. Vabbè, sì, parerle pure addosso, mi raccomando, la prende bene. No, no, ma lei ce l'ha detto, non ti preoccupare, tu dimmi tutto quello che mi devi dire. Raga, stiamo ancora uguali. Vediamo. Truth of theirs. Allora, raga, la obblighiamo. Allora, raga! Abbiamo tre obblighi. Mangia qualcosa senza usare le mani. Cosa c'è nella tua borsa? Oppure togliti quattro cose che hai addosso. Si può votare. Credo che questa debba essere messa ai voti. E lei, per l'immagine, non guardate neanche l'ultima. Caismallo, non puoi fermare l'ormone folle e impaziente degli amici. Amici, siete davanti al giorno del giudizio. Dovete farle fare un obbligo. Qual è l'obbligo che scegliete per la nostra bella? Mangiare qualcosa senza usare le mani. Vedere che cosa c'ha nella borsa. O togliersi quattro cose de vestitas. Magari lei è spagnola, magari le piace. Fa caldo in Spagna. Non lo so. Si è fermata con una fazzoglio calica. Più o meno così. Bellotta uomo saggio. Sapeva come sarebbe andato a finire. Ecco i download. Vogliamo fare bube. Fer, vi giudico tutto. Amici, amici, scegliete con parsimonia. Scegliete con claudenzia. Amici, non fate gli sporchi. Amici, cosa succede? Perché tutte queste persone vogliono vedere questa ragazza nuda? Fermi, state rovinando questa situazione. Non fate per il potere della voce. Però lei secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Ci sta. Raga! Niente, è finita. È finita. Era l'ultima chance. Era l'ultima chance, amici. E ce la siamo giocata. Maya must remove four items of clothing. That did not take long, dire. Eh, sì, bravo. Mi svoca, eh. Oh, sei tu che facevi la sborona? Mica io. Ok. Mi tolgo la scarpa. Mi tolgo il calzino. Sciopiedini. Edda! Mi tolgo l'altra scarpa. Mi tolgo l'altro calzino. Yeah! Fatto, fatto, ha fatto. Fatto. Ha trovato il tarlo. Eh, eh, eh. Fermi. Brava, brava. Furba, furba. Grazie dei piedi. Che ti credevi? Che mi mettevo ignuda davanti a te, stusporc? Beh. Ok, di nuovo il nostro turno. Raga, che facciamo? Obbligo o verità? Intanto mi si è spaccata un'unghia, mannaggia tutto. Ciao, bongonauta! Ehi! Calmi. Obbligo. Obbligo. I'm gonna be brave and say damn. Intanto fammi vedere. Why you? Why you? Why you? Farla spugliare è andata bene. Ciao, distro. Raga. Io vi ho detto che quella è spagnola. Quella è fugosa. È fugosa. Non... Ma ha funzionato. Ma lei è spagnola. Non la uso come scusa. Però è spagnola. Quella è fugosa. E ai ai ai, caramba. Cioè, non... Magari stuzzica. Cioè, le piace il piccante. Andiamo. Ok. Ok, dai, dai, sfidami. Ma adesso esco il pipo. Devi mandare un messaggio sessuale all'ultima persona a cui hai mandato un messaggio. Lo faccio anche io. Scrivo a bell'olta. Allora. Come on! Gli scrivo e gli dico Ho voglia di fare la parmigiana con te. Fatto. Ok? Io l'ho mandato. Fatto. Vediamo un po' cosa mi risponde. Secondo me è proprio... Accetto. Accetto? Gli vado? Sei davvero troppo perversa. E lo so, scusate. Mi piace un sacco fare la parmigiana. E lei o sua mamma. Accetto e callum. Accetto. Vado, vado, vado. Il suo bro, tanto... Ma, ma, raga. Volete mettere che adesso arriva il twist? E magari Callum ce lo vuole con noi dall'inizio di questa avventura? E appena riceve il messaggio del tipo Vorrei proprio vederti il pipo. Ci risponde, oddio. Non vedevo l'ora che me lo chiedessi. Ti prego. Grazie Gesù. E c'è il twistone. Eh? 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 Io gli dico, eh? Che potrebbe. Poi gli manda la foto. Ah, ok. Poi deve vedere... Ah, lei deve dire che cosa scrivere. Ok, va bene. Lei ci dice cosa scrivere. Ti share lo screen. E lui è Callum. Il bagnaletto. Il piscione. Ma no, dai. Madonna mia. Questo è pure piscione. Ma scusami. Sì, tanto è lui. È l'ultima persona con cui parla. Non abbiamo amici. Abbiamo solo un amico. È Callum. Quindi non è che parliamo con altri. Callum. Ho pensato un sacco al nostro tempo passato insieme a Budapest. e ogni volta che lo faccio mi viene dura pensarci di nuovo. E ho bisogno di averti qui. E ho bisogno che... Basta, gli ho detto no, basta, ti prego. Raga, io vi dico che qua c'è un twist, eh. Raga, qui c'è un twist. Ma anche noi. Fermi. No, vabbè. Fermi. Inviato! Raga Callum ci risponde. Raga Callum ci risponde. Ed è... Finiamo a Taraluccio e Vino con K. Io sarei contenta. Perché è l'unica persona di cui mi fido. Vabbè, bra, bra, bra. Fatta, fatta stronzate. Bromance fortissimo. Mi risponde veramente. Anche io. Ok. Dai, torniamo a te, Maya, per favore. Obbligo verità. Ok, verità. Verità. Deve dirmi una verità. Cosa pensi di me? Hai mai... Hai mai, come si dice... Tradito qualcuno? Oppure qual è la tua paura più grande? Raga, che le chiediamo? Allora, le tre opzioni sono... Cosa pensi di me? Hai mai tradito qualcuno? O qual è la tua paura più grande? Possiamo... Tradimento? Tradimento? Hai mai tradito qualcuno? Maya, 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 Maya. Maya, 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 Maya. Hai mai tradito qualcuno? Oh, shit, sorry. Is that too far? Mi sono spinto troppo in là? No. Ho paura che tu possa giudicarmi. No, no. Però se non vuoi dirlo... No, va bene. Ho tradito una volta. Il mio ex mi ha tradito e quindi io ero così ferita che ho provato a renderlo geloso e quindi l'ho tradito e quindi l'ho tradito anche io. Vabbè, dai, si sono traditi a vicenda. Che storia. Wow. Che deve giudicare dopo che l'amico gli pioberà a casa con i fiori. Vabbè, dai, se vuoi fare, se vuoi fare... Lo so, il revenge è comunque sbagliato, però... Era giovane e non sapeva... Non lo farei mai di nuovo, eh? Mi ricordano una coppia di nostra conoscenza. Non so di cosa stai parlando, non conosco. Non conosco coppie in questa vita. Allora, possiamo fermarci a parlare oppure continuare un altro round? Raga, facciamo un altro round oppure no? Lei sta continuando a bere e a versarsi del vino. Perché non facciamo ancora un altro, dai. Vai. Raga, obbligo verità. Vediamo percentuale. Raga. Fermi! La portiamo a casa! Portiamo a casa la coppa! Fermi! Fermi! Obbligo verità! Stasera si parmigiana! Obbligo verità! Verità. Go on, truth! Truth! Eh, da, dica! Censio per Censio! Ok. Ok. Cosa faresti? La prima cosa che fai... Faresti se potessi diventare invisibile. Che cazzo di domanda è? Capito? Che domanda è? Cosa possiamo fare una volta diventati invisibili? Andiamo a Berlino! Rapinare una banca, aiutare la polizia, venire da te. Venire da te è invisibile. Così la puoi vedere nuda. Ma sei uno sporco. Rapinare una banca, che risposte irribili. Sono veramente terribili. Cioè, cosa posso... Io cosa farei se diventassi invisibile? La prima cosa che farei... Andrei, in giro darei gli scappellotti alla gente. Sarebbe bellissimo! Vado in giro per strada e do gli schiaffoni dietro al cucuzzolo proprio della testa alle persone. Faccio questo tutta la giornata. E per me invisibilità guadagnata bellissimi. Bellissimi, perfetto! Sarebbe una soddisfazione che... Oh, ma è bellissimo! Giro dare i coppini alla gente. Cioè, chi me ne frega di rapinar la banca? Poi i soldi si vedono. Il punto è che tu vai a rapinar la banca, però i soldi si vedono. Poi si vede con la persona che si sposta i soldi. Invece no, lo dà il coppino alla gente. E quello si gira e dice... Che è su scemo che mi ha dato il coppino? E non lo vedono! Bellissimo! La prego, decidi lei! Ma poi help the police a fare che? Raga, che ne so. No, la terza è rischiosa, direi la prima. Questa fuma erba e vai rave. Magari è Agab. Magari è Agab. Le piace? Aspè. Oh! Ah, lei pure la ladra. Vedi, anche lei è ladra. Ha detto, ah, vedi che io rubavo da giovane. Quindi essere invisibile sarebbe stato molto utile. Che cosa hai rubato? Qualsiasi cosa. Oh no. Ma è là, è Agab. C'è mai stata acchiappata? Un sacco di volte. Ma questa è stata... Come si chiama? Disneyland. Ah, e quando venivo acchiappata andavo da un'altra... Bravo caccio! Un altro negozio. Ok, lei se ne sta per andare comunque. Però è il nostro turno. Ok. Sta chiudendo veloce la chiamata. Oh no. Eh, però non ci ha fatto fare la cosa. Ciao, col Cipher. Parla solo il cliptomania con una leggerezza preoccupante. Perché vuole rubarci facilmente anche il cuore. Per questo. È andata bene, però. È andata bene? È andata bene! Ok. Sei una delle persone più uniche che io abbia mai conosciuto. In un modo buono oppure in un modo cattivo. Eh, già, bene. Lei non mi sembra convinta, raga. Ok. Raga, non mi sembra convinta. Ti penserò. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Maronna mia, raga, non la vedo bene. Allora. Qualche pensiero sono mai. Lui è nudo. Raga, questi hanno fatto le sporcherie comunque, eh, gli ho dico. Oh, lui è contento, ma con il cuore infranto. Lo so. Eh, però posso... Mi sento bene con lei, è nudo. Raga, questi hanno fatto le sporcherie. Lui c'è la classica maglietta della salute di chi ha fatto. Lui tranquillissimo, è vero. Eh, devi speziarti la vita. Ma io sono una brava persona. Eh, solo dice che devi fare il mariuolo appresso a lei. Magari far rubare a lei. Dormici su e vedi che cosa vuoi fare. Eh, ti apprezzo come sempre. Infatti io certe volte penso che cosa farebbe Vincenzo senza di me. Vabbè, buonanotte. Sarei molto ricco. Eh, sì, sì, va d'oro. Sei cretino. Sei scemo proprio. Che bravo amico però. Ma infatti lo vorrei tantissimo un amico come lui. Soltanto che non ce l'ho. Non so. Ah, raga, terzo appuntamento. Abbiamo... È un best bro. Nessuno ha menzionato il messaggio. Raga, io vi ho detto che questi due hanno una relazione clandestina. Loro non ne parlano perché si sono sentiti. No. Loro si sono sentiti privatamente. Hanno già fatto lo sporco. Ehi noi, lo so! Vado? Non è attiva. Oh no, il profilo non è attivo. Aspetta, mi ha risposto? Sì, Maya? Dai, Maya, per forza mi devi dire di sì. Maya? Yes! Ok, una cena. Va bene, Maya ci ha concesso il terzo appuntamento. È una cena. È stata arrestata. Ma ti immagini? Lei... Oh! Cena! Lui nudo. Raga, ma ti prego. Ma uno che si presenta così. Ma questo li abbiamo visto, il pacco. Ma sicuro. Teccala, guarda lì. Guardalo lì. Ok, non so che cosa farà Maya. Ah, non ordinate contemporaneamente? No, ci siamo detti di sorprenderci. Va bene, ok. Che c'ha da. Madonna, lui vuole cucinare la paella. Perché dice lei è spagnola, le faccio la paella. Ma no, ti prego. È come se io frequentassi un americano e mi dicesse ti faccio la pizza. Ma non ti permettere, io ti prendo a schiaffi. Andiamo in pizzeria se vuoi la pizza. Non ti permettere. Lui è scemo. Best bro, aiutalo tu. Ma fai un'altra cosa. Ma tu sei scemo, la paella. E se ti viene di merda. Quella ti giudica malissimo. Sì, ovviamente. Terzo appuntamento è qualcosa. Quindi mi raccomando, ti prego. No, non è niente di che. Il terzo appuntamento, se fosse di persona, sarebbe l'appuntamento in cui voi fate le zozzerie. Ciao, Iacomeri! Sì, io mi affido al mio intuito. No, ti prego. Bro, aiutalo. Lei è il golo sulla 90? No, non è il golo sulla 90, lei. Lui ha detto comunque, mi raccomando, buon appuntamento. Però sappi che se mi chiami, non ti rispondo stasera. Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Va a fare lo sporco. Ah, anche lui si è iscritto al programma. Dai! La mia amica canadessa la prima sera viene portata in un ristorante italia. È terribile, veramente terribile. Eh, no, non ti preoccupare. Ne parliamo dopo, attenzione. Quindi lui rimorchia. E ti si va a trovare nudo, poi, fra l'altro. È già pronto per il terzo appuntamento. Non credo che abbia rimorchiato l'infermiera uno come Callum. Comunque, mai dire mai. Raga, è il nostro ultimo appuntamento. Credo. Ed è sempre in ritardo, però non è possibile. Raga, io non posso vivere con una donna così. Io, se c'è una cosa che ho nella vita, sono i ritardatari. Vi giuro, è una roba che mi fa veramente soffrire dentro. Wow! Ti ho perdonato tutto. Tappo. Va benissimo, presa. Lei stava piangendo? Lei stava piangendo? Ho una sorpresa per te. Spero che ti piaccia. Eh, la paella. Eh, lei sta piangendo ancora di più. Che donna di bolso. Scusa, che smanno, è che ti presenta così e dici Ah, sembra veramente una chiavica, però ci hai provato, bravo. E tu invece che cosa hai preso? È un microwave, ciao a me. Ma lei ha pippato. Ciao Ben Stark, buon po' eriggio. Ma lei ha pippato, lei sta sniffando tantissimo, tipo. Cioè, non ha... Sembra tipo strana. E comunque si è fatta la roba al microonde. Ciao Billy! Forse ha l'influenza. Sta piangendo. Stai piangendo. Lui invece continua a fare il cretino. Aspetta. Le chiediamo se va tutto bene? Dai, raga. Leggi la stanza. Volete il collirio? Vado? Gli chiediamo. Tutto a posto. Oh, I'm fine, I'm fine. Fa il raffreddore? Just talk about something else. Ok? Dice parliamo di altro. E lui gli sta per dire... Oh no. Oh no. Le hanno sequestrato la roba. Raga, questa veramente l'hanno arrestata allora, eh. Mi sa che questa l'hanno arrestata e lei non vuole parlare del suo arresto. Move on. Insisto, vado avanti. Ha detto il nostro nome. Coren, fino ad adesso, è sempre stato un personaggio di cultura. Ciao, Riega, ma ti ho assurdato. Non lo so. Scusa. Aiuto. L'ha arrivata in Spagna. Ancora non sappiamo chi è Tom. L'ha stata i domiciliari. Insisto o no? Mi distacco un attimo e questa piange. Ha arrestato lo spacciatore e non può più comprare le cose. Guarda che quello è traumatico. Non è vero, io lo dico per sentito dire, perché c'ho gli amici che sono drogati. Raga, è uno che deve fare nella vita. Magari c'è degli amici drogati. Ciao, Galit! Se vuole ce lo dirà lei. Mangiamo su internet. È così strano, vero? Ma che amici ha? È strani. Quando il lockdown sarà finito ti porto a cena. Ok. Madonna mia, fa una paella di merda comunque l'ha fatto. Eh, però non è male comunque vedersi a distanza prima, perché così almeno possiamo controllare che personalità abbiamo, che tipo di persone siamo, e poi magari capire se poterci vedere dal vivo. Credi che continuerai a fare videodating? Quando le cose torneranno alla normalità, quindi quando il lockdown sarà finito tu continuerai ad utilizzare questa applicazione, sì o no? Maia, dipende. Se ci stai, no. Poi, però mi devi dire tu. Perché non, cioè, non vorrei dire che non cre... Minchia, no! Eh, non credo che qualcosa possa essere meglio di vedersi di persona. È vero. È un peccato che noi non l'abbiamo fatto, di vederci di persona. Ok, perché dice comunque sarebbe meglio, cioè, anche se comunque fatto così è meglio, perché se ti vedessi adesso ti conosco un po' di più. Non cadere nel sentimentalismo. Eh, ho capito! Eh, oh! Ma se ci... Aspetta, se tu ci stai, ci sto perché ti voglio bene un po', Grignani. Ma che fini ha fatto Grignani? Vieni a Sanremo, go, Ren. Sta a Sanremo, a posto, fatto. La vedo coinvolta. Raga, come la salutiamo? Dobbiamo stare a due metri di distanza. Ok, però abbastanza vicini per parlare. Ok, l'unica ragazza con cui sto parlando al momento è questo, è vero, ma non è vero perché l'abbiamo scelto noi. È vero perché le altre due ci hanno appiedato. Vorrei anche mettere all'evidenza dei fatti questa cosa alla ragazza, però noi non dobbiamo per forza dirglielo. È l'unica persona, dettagli, ma che c'è un po', ma che c'è un po'. Sembri sorpresa. No, dico... Sai, le persone sulle app cercano di parlare con quanta più gente possibile. No, no, non io. Io questa roba non la faccio. Ah, le vogliamo chiedere se parla con altre persone, lei, nel frattempo? Non servono i dettagli. Vabbè, una era pazza, l'altra aveva quattro figli. Ma non ce ne aveva quattro figli! Non è vero! Move on! Non lo faccio? Meglio non chiedere o si mette a piangere. Minchia, dite? È chiaro, anche... Aspetta, anche noi l'avremmo fatto, quindi andiamo avanti, ok? Ciao, signor Good! Quando ci incontreremo... Ok, quando ci incontreremo di persona entrerà in gioco anche l'attrazione fisica? Sì, sarebbe... Sì, dai, facciamo un'attrazione fisica. In quel caso... Abbiamo avuto... Abbiamo fatto il nostro primo appuntamento, no? Facciamo... Poniamo il caso che noi ci siamo visti di persona, abbiamo fatto il nostro primo appuntamento. Cosa facciamo alla fine dell'appuntamento? Calma... Il nostro primo appuntamento... Il nostro primo appuntamento! Non fate gli sporchi! Mannaggia tutto! Bacio, niente o torni a casa mia? A lei piace rischiare. Dite... Signora, i mori, signora! Raga, fino ad adesso siamo ancora a 100, eh? Ma come esci? No, te cachi! Ma allora! Bacio? Bacio? Vado. Bacio, bacio! Dai, tu ci stai! Ok, presa! Yes! E lei dice, ok, il limone. E se io ti dicessi che vorrei che venissi a casa mia? Cosa mi risponderesti? Ho detto giusto? Eh... Che le diciamo? E diciamo subito andiamo? Che se lei... Ce l'ha detto... Raga, l'ha detto lei, però, eh? Finalmente si trova... Raga, l'ha detto lei, però, eh? L'ha detto lei... Non è che l'ho detto io... L'ha detto lei... Lei ha detto... Se io ti invitassi a casa mia... Ma che è? Che si nome è chiesa? D'Artavion! È lei che invita! Sarebbe scortese dire di no. Eh, sì, sarebbe scortese. Però non sono sorpreso. Penso che ci divertiremo insieme. Oh, sì. Anche io penso che ci divertiremo insieme. Ok. Ok. Dimenticati di tutto il resto. Mi vuoi basiare adesso? Come se non ci fosse un computer tra di noi? No, nessuna distanza. Magari vuoi che le fanno pare... La sbasi, la sbase, sì. Sto morendo dalla voglia proprio di infilarci la lingua in gola. Bravo, bella risposta. Ok. Ok. Dovremmo fermarci? No, no, no! No, perché ci dovremmo fermare? No, perché ci dobbiamo fermare? La mia situazione è super asimmetrica. Dici? No, dai. A me sembra... Allora, come va con la pa? Buono, ciao, main. Se ce la facciamo, creiamo il momento qui su Twitch. Ti prego, zero. Sì, io non so come si facciano i momenti, però quello deve esserci assolutamente. È la prima volta che riusciamo in un dating simulator. Vi prego. Non piange più, funziona. Però stava pensando ad altro. Ok, ci sta dicendo perché piangeva. Sì, ho notato che stavi piangendo. Ah, il suo ex l'ha messaggiata. Oh, ok. Ok. Però siete ancora amici, no? Ah, non era un messaggio da amici. E che messaggio era? E quindi dove porterà questa cosa? Scusa, perché... Abbiamo avuto qualcosa, però è nel passato. Soltanto che è difficile comunque togliere i sentimenti di mezzo, perché abbiamo passato tanto tempo insieme. Oh, no. Quindi dice, c'è una parte di me che lo amirà per sempre. Quindi ho paura che ci sia questa parte di me che non mi fa andare avanti. Ciao, guys! Sì, no, riprego, ti prego. Comprendiamo? Ci arrabbiamo? Oppure... Confidence? Non mi viene il termine in italiano. Siamo sicuri di noi. Però sicuri di noi su cosa? Confidente? Understanding? Non lo so. Confidenza? O comprensivi? Comprensivi? Cioè, sicuri di noi o arrabbiati? Ma arrabbiati penso di noi, perché se no non ce la portiamo a casa. Questa sta ancora al 100%. Ormai ho l'ansia. Sto sudando. Soldo! La regola dell'amico. Non funziona essere amici. Raga, però io ho paura che se siamo understanding, lei ci appieda, eh. Noi dobbiamo essere confidente, secondo me, perché è comprensivi... No, lo so che vuole essere capita, però ho come l'impressione che se noi gli diciamo no, 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 ma ti capisco, lei la può prendere anche come un... Va bene, allora rimaniamo amici finché non ti chiarisci le idee. No! Confido? Provo, raga, provo. Lo capisco. La maggior parte della tua vita adulta... Ah, ok, la maggior parte della tua vita l'hai passata con questo cretino e lei ha detto non è un cretino, è un bravo ragazzo. Oh no, ma perché abbiamo detto cretino? Cioè, ma vabbè, c'era bisogno? Sono sicuro che lo sia, ma... Penso che... Con me starei meglio, punto. Oh no, vabbè, è un po' da sborone. Credo in me stesso e in cosa ho da offrire. Quindi... Ah, il prossimo step è uscire da questa applicazione. Ok, scegliamo i numeri, ok, ci possiamo scambiare i numeri dopo questo appuntamento. Raga, siamo alla fine. Dai! Ok? Che facciamo? La rivediamo. Vorrei continuare a vederti. Ma smetti di guardare la percentuale. E ho ansia! Mi piacerebbe rivederti. C'abbiamo qualcosa di bello, quindi vediamo se c'è altro bello, di bello. E lei si dà il vino. Mi sembra giusto, si dà il tavernello. Vai. Dai, dai, dai. Oh no! A letto! Si sono scappiati i numeri e si sono videochiamati fuori dall'app. Quindi sì! Stanno cazzeggiando, stanno parlando di cose. Sì, che ho sognato di questa ragazza bellissima che ho incontrato su quest'app, bla bla bla. Raccontami del sogno che hai fatto. Spe. Ero tipo in un film. Però stavo anche facendo il film. Oh no, è un'attrice hard. Attenzione, il twist. Raga! Quindi è finita! Dai! Sì! Uhuh! Raga! Sì! Per la prima volta in questo canale. Sì, ti prego, Zero. Io non so come si faccia il momento, però se lo sai fare fallo. Per la prima volta in questo canale siamo riusciti a finire bene un dating sim. Dai! Bravi! Come lo faccio? Come lo faccio? Come lo faccio, Zero? No, io lo voglio fare subito. Come lo faccio? Voglio farvi il momento. Come vi un momento? Voglio momentarvi. Bravo, Caccio! Voglio fare il momento. Momento! Scrivo momento. Momento. Magari qui ci sta. Non c'è un momento. Come mi momento? Non lo so come si fa un momento. Ce l'abbiamo fatta, sì, carcao! Mamma santa, amici! Siamo delle persone veramente toste. Ma che dico toste? Tostissime! Il 22 dicembre sarà festa nazionale. Nel gestore streaming clicca sull'icona più del riquadro e azioni rapide per aprire le azioni rapide. Ok. Aggiungilo all'apposito riquadro nell'azione e trasformalo in momento. Ok. Fammi vedere un attimo se c'è perché non lo vedo. Che il punto è che non lo vedo proprio. Stream, forse, in stream non c'è. Raga, secondo me io non lo posso fare. Non lo posso fare. Mi dice tutto tranne quello. No, dai, lo voglio fare! No, trasformalo! No, dai! Voglio fare il momento! Posso chiedere il permesso di mandare un link? Certo, Coren. Vai, manda pure. E ancora in beta? Mannaggia la miseria! Qualcuno clip in questo momento, amici? Ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Chi è Maria Isabella? Chi è Maria Isabella? Ma la signorina! Ma attenzione! Ma c'ha un profilo Instagram abbastanza preponderante. 84.000 follower! Vir mai! Quando è bella! Aspira tanto sentimento! Amici! Abbiamo cuccato! Certo! Posso dire la verità? Non abbiamo cuccato con...